Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro che organizziamo in questa bellissima sede del Polo del Novecento di Torino. Torino ha la fortuna di avere molti spazi all'interno dei quali organizzare anche degli eventi di questo tipo. Oggi siamo qui per dare inizio ad un percorso rivolto alle imprese dell'industria dello sport. Nell'arco di questa mattinata sentiremo raccontare un po' quali sono le opportunità per le aziende dell'industria sportiva piemontese con un focus specifico sulla Germania. La Germania è il primo paese sul quale facciamo un focus per parlare di quali sono le opportunità, ma nell'arco di tutta questa mattinata, grazie alla presenza dei numerosi ospiti che interverranno poi qui su questo piccolo palco informale, sentiremo un po' raccontare qual è lo stato dell'industria dello sport, di che cosa parliamo quando parliamo di industria dello sport e soprattutto di quali sono anche le opportunità di collaborazione tecnologica e industriale con la Germania. Per dare inizio a questa giornata che invito ovviamente a seguire con attenzione, ma anche con la libertà assoluta poi di porre domande, non siamo in molti in questa sala e quindi di utilizzarla anche come momento di scambio e di confronto fra le realtà imprenditoriali presenti in sala, do la parola per il saluto a Paolo Bertolino, direttore di Unione Camera di Piemonte. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti, un saluto anche ai colleghi della Camera di Commercio Italiana per la Germania che insieme a noi hanno organizzato e supportato questo incontro. Vi porto ovviamente i saluti del Presidente della Camera di Commercio di Torino, Dario Gallini e del Presidente di Unione Camera di Piemonte, Gian Paolo Coscia. Come diceva Giovanni, questo è un kick off di un'idea che bolliva in pentola da un po' nel sistema camerale, di cercare di supportare la filiera piemontese dello sport, legata allo sport, con l'obiettivo credo di creare dei percorsi di internazionalizzazione in parte di questa filiera. Non è facile, credo che la cosa più difficile sia capire qual è la filiera dello sport da approcciare, perché è molto variegata, c'è di tutto, abbiamo delle punte di diamante in questo territorio, abbiamo delle eccellenze, abbiamo settori legati alla storia del nostro tessile nel biellese che si sono riconvertiti, abbiamo chi produce mezzi di trasporto tipo biciclette, c'è un'industria importante nel cuneese, abbiamo dell'industria, abbiamo sicuramente una capacità, una storia imprenditoriale molto importante. Non è facile e credo che oggi sia la prima giornata per cercare di mettere insieme un po' chi si ritrova in questa filiera e dare un senso a una filiera che deve poi crescere e svilupparsi, ma credo che sia importante legare anche il tema dello sport al tema del nostro territorio, al tema dell'attrazione, di una promozione turistica. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio Piemonte che ha tutto per lo sport. Come sistema camerale facciamo parte della società Visit Piemonte che fa promozione del turismo e ha lanciato anche un progetto sull'outdoor che sta prendendo piede. Credo che ormai post-covid, post-lockdown che abbiamo vissuto, tutti si sono approcciati di nuovo in maniera molto più forte al tema dell'outdoor e di vivere la natura. Quindi credo che creare anche una filiera che possa sentirsi brandizzata in un territorio che ha niente da invidiare ad altri posti nel mondo credo che sia importante. Le camere porteranno e lavoreranno insieme su questo progetto. Abbiamo anche al nostro fianco ovviamente il Centro Estero per Internezzazione del Piemonte che è stato un po' la società che nei progetti di filiera ha creato la sua storia e si è sviluppato. Questa è una nuova filiera che stiamo cercando di far partire e quindi credo che con l'impegno di tutti queste giornate possano aiutare a definire meglio le progettualità e a svilupparle. In più c'è questo focus sulla Germania che è un mercato di assoluto interesse e quindi lascio la parola a chi più tecnicamente di me sa introdurre la giornata. Grazie. Grazie Paolo. Allora per continuare a rompere il ghiaccio e questa mattina direi che non è solo letterale l'espressione darei la parola ad Anna Ferrino che è presidente di Assosport ma prima di tutto penso che sia anche conosciuta per la sua importante e lunga storia aziendale e anche perché questa idea di cominciare a lavorare su un'industria dello sport che fosse un po' un aggregato di diverse filiere quindi non solo il tessile, non solo le attrezzature, non solo le infrastrutture, non solo i servizi e così via è venuta proprio da qualche chiacchierata che circa un anno fa avevamo proprio cominciato a fare con lei. Ecco, buongiorno, oggi è una giornata bella perché appunto iniziamo a vedere un percorso proprio tangibile di queste chiacchierate che avevamo iniziato tanti giorni fa, molto tempo fa, da una riflessione una riflessione sul nostro territorio capace come sappiamo bene di ospitare con successo grandissimi eventi sportivi di avere come è stato ricordato un territorio perfetto per lo stile di vita tra l'altro outdoor che sempre di più sta diventando un fattore competitivo anche dei territori stessi ma purtroppo non ha mai ragionato approfonditamente sullo sviluppo dell'industria sportiva di tutte le aziende che a questo business ruotano intorno io sono appunto qui in duplice veste uno testimoniare il ruolo di un'azienda sportiva del nostro territorio particolarmente storica perché noi siamo qua dal 1870 e quindi di quello che può essere comunque possibile anche se non c'è una filiera consolidata a fare industria sportiva sul nostro territorio grazie anche alle testimonianze che vedrete dopo del Politecnico e di enti di ricerca che comunque ci lavorano attivamente che possono essere degli alleati preziosi in alcuni progetti e nello stesso tempo a portarvi però un quadro di insieme quale presidente di Assosport io sono appunto la prima presidente donna di Assosport piemontese che cos'è Assosport? Assosport abbiamo presentato alcune slide di accompagnamento a questo mio intervento allora appunto l'Italia è conosciuta essenzialmente per la sua cultura per il suo cibo per tutta una serie di altri valori ma in realtà anche da un punto di vista di bilancio turistico lo sport è uno dei grandi fattori di attrazione quindi io quando ho assunto questa presidenza mi sono da subito posto il problema di cercare di impegnarmi per dare allo sport in Italia un valore di filiera equiparabile a quelle che sono considerate le grandi filiere italiane e cioè il design, il food, il turismo, l'arte e la cultura Assosport è un'associazione di secondo livello confindustriale che appunto ha come obiettivo rappresentare, tutelare e valorizzare in ambito nazionale e internazionale le aziende sportive italiane che sono indubbiamente una delle forze economiche più vitali e prestigiosi del paese perché promuovono e sviluppano progetti e servizi cioè noi promuoviamo progetti e servizi al servizio delle aziende ma cercando, e anche questo è un passo un po' avanti di interagire il più possibile con i principali stakeholder del sistema un po' perché sono io fatta così, un po' perché credo che come sempre nel nostro paese e solo con una grande alleanza fra pubblico e privato che si portano a casa i risultati se ognuno sta sempre nel suo recinto non si andrà mai da nessuna parte quindi guardiamo un attimino quattro macri numeri tanto per contestualizzare un po' la giornata e la mattinata mi sono focalizzata in un ambito europeo e italiano che comunque insomma ne abbiamo già parecchio a livello europeo sono 81 miliardi di euro il fatturato annuo 700 mila addetti circa occupati il 75% delle aziende comunque sono quelle che noi chiamiamo PMI e c'è molta struttura europea all'interno della nostra azienda in quanto a Bruxelles abbiamo un'organizzazione che si chiama FESI Federazione Europea dell'Industria Sportiva ho l'onore di essere un membro del consiglio di amministrazione di questa associazione in quanto presidente dell'associazione italiana e chi siamo? Siamo tutte le associazioni nazionali più i rappresentanti delle grandissime major che tutti conosciamo Nike, Adidas eccetera e cerchiamo di interloquire con Bruxelles per riuscire in qualche modo a vincere insieme delle sfide comuni aumentare il tasso di pratica sportiva che è cruciale poiché impatta drasticamente anche sulla salute dei cittadini cercare di regolamentare l'industria perché molti dei nostri manufatti sono comunque dei dispositivi di protezione individuale che hanno bisogno comunque delle regolamentazioni c'è la grande partita del trade perché come voi sapete l'industria sportiva è un'industria molto delocalizzata e quindi nelle partite di Dazi di apertura di confini e abbattimento di barriere sta molto anche della competitività delle nostre imprese che sono comunque delle grandi sportatrici il tasso medio di export delle imprese nostre associate si aggira intorno al 60% e quindi è un tasso particolarmente significativo nell'Italia venendo invece all'Italia il fatturato è stimato in 14 miliardi e 170 mila addetti di quei 14 miliardi gli affiliati ad Assosport perché appunto ripeto non è una affiliazione obbligatoria è volontaria e entri nel mondo del sistema confindustriale noi rappresentiamo circa 5 miliardi di fatturato con le nostre associate come è spacchettato questo fatturato italiano in calzature, attrezzatura e l'abbigliamento che fa ancora la parte del leone venendo al Piemonte invece i numeri sono molto più parcializzati quindi abbiamo più come potete vedere da slide intrattenimento, commercio, dettaglio che non produzione, manufacturing e le quattro prime voci invece sono più di produzione spacchettate in quel modo che vedete e sono comunque molto più basse rispetto all'insieme proprio per quello che dicevamo prima purtroppo in Piemonte in tempi storici non siamo stati in grado di costruire una filiera anche se sulla montagna potevamo averne titolo essendo nato tutto qua fondato il CAI qua eccetera e quindi oggi ci troviamo a essere una regione molto interessante da un punto di vista dei consumi e dei consumi potenziali molto meno strutturata da un punto di vista di filiera produttiva che poi è estremamente parcellizzata l'export vale 6 miliardi circa quindi insomma è parecchio rilevante e questi sono i primi tre paesi destinatari e quindi molto bene che oggi partiamo proprio da un focus e Germania perché la Germania o comunque quello che in gergo chiamiamo DAC che sono le lingue di lingua cioè i mercati di lingua tedesca sono estremamente rilevanti nel nostro business perché oltre alla Germania c'è un'Austria ma c'è anche una Svizzera che è particolarmente rilevante soprattutto nel business dell'outdoor l'outdoor che è la filiera in questo momento più importante per la sportindustria italiana questi sono slide tratte dall'EOG European Outdoor Group appunto c'è molta organizzazione a livello europeo nella nostra industria e questo è estremamente interessante perché anche noi come associazioni andiamo subito a dialogare su tavoli molto più allargati dove anche quel concetto di filiera di piccoli medi e grandi che insieme lavorano su obiettivi comuni e come sempre i capo filiera sono interessanti anche come possibili fonti di ispirazione o di trascinarsi dietro la filiera nello sport avviene e questo è molto molto interessante e questo vedete a livello europeo ogni anno questa associazione pubblica un report attingendo i dati dalle proprie associate che però sono sostanzialmente tutti i marchi più importanti che giocano nel mercato europeo e questo è come spacchettato il fatturato dell'outdoor dal loro report che si chiama appunto State of Trade del 2022 il padel è un fenomeno allora sicuramente tutti voi sapete quanto nello sport uno sport o una filiera che appunto ha grandi atleti e grandi eventi sportivi può trascinare il consumo è quello che sta accadendo con il tennis che c'è una grande riconversione non dobbiamo dimenticarsi che il tennis veniva da anni di estrema crisi e una sua declinazione il padel che appunto è una sorpresa piacevolissima anche se non è che noi abbiamo proprio molte aziende quando noi parliamo di sport in industria italiana teniamo sempre presente che non parliamo solo di aziende italiane tipo la mia ma parliamo sempre e comunque anche delle filiali europee dei grandi marchi perché l'industria sportiva è un'industria fatta molto da grandi marchi globali e quindi non possiamo mai come dire tenerli fuori dal computo totale quindi anche noi come associati abbiamo tantissime filiali di marchi internazionali il mercato del fitness è stato quello più bastonato dalla crisi perché ha subito come sappiamo il prolungato la prolungata chiusura delle strutture poi però in outdoor molte persone hanno come dire supplito alla chiusura e questo più o meno è la fotografia del mercato del fitness che è un'altra filiera quindi tornando all'italia le filiere principali sono l'outdoor outdoor come tutti lo intendiamo ma includiamo anche il mondo della neve e dello sci che è una filiera rilevantissima nel monte bellunese rispetto alla produzione di scarponi da sci di sci e di attrezzature varie il fitness che ha un vero capofigliera globale italiano in questo caso non americano che è Tecnogym e che è sempre in quell'area lì delle marche insomma si trascina dietro della bassa emilia delle marche si trascina dietro un po' di filiera di aziende che lavorano sul fitness e appunto i fattori principali di crescita della nostra industria sono un pochino questa per fortuna noi stiamo lavorando tantissimo anche con il CONI con sport e salute dialoghiamo tantissimo proprio perché è fondamentale aumentare comunque il numero dei praticanti appunto come dicevo le nostre filiere principali sono queste non dimentichiamo mai il tessile il tessile è una filiera importantissima soprattutto oggi che si parla molto e c'è grande necessità di materiali smart sostenibili eccetera c'è un grandissimo ritorno anche alla filiera italiana e molto è grazie anche alla riconversione di zone storicamente eccellenti del tessile come la nostra biellese che sanno esprimere delle riconversioni particolarmente interessanti e va bene questo insomma è quello che facciamo noi e sono gli obiettivi della nostra associazione queste sono le attività principali e le aree di intervento siamo la sede a Mestre dove c'è una struttura che lavora appunto al servizio delle nostre imprese su questi principali filieri di attività l'internazionalizzazione perché è importantissima qua sono alcuni esempi di partnership liceci supporta tantissimo e noi con lice mettiamo giù un piano annuale di attività questa ad esempio sono l'active show di Dubai al quale partecipiamo ogni anno che è importante per l'area Middle East per le nostre aziende del fitness facciamo delle cose anche sui tessuti come questa insomma qua sono una carrellata di varie iniziative B2B focus B2B B2B o B2B per supportare le nostre aziende e soprattutto portare quelle più piccole che magari non avrebbero le capacità di farlo da solo a partecipare a degli eventi più ampi nei quali comunque potersi connettere agevolmente e a costi molto bassi con i buyer abbiamo portato l'istituto italiano di cultura ha scelto quest'anno cioè quest'anno un bel po' di anni fa due tre anni fa un progetto che tra l'altro ironia della sorte era un progetto sponsorizzato da Ferrino che aveva portato anche la mostra qua al museo della montagna sulle tracce dei ghiacciai sono raffronti fotografici fra le fotografie storiche le fotografie recenti dei ghiacciai intorno al mondo è un progetto che è durato dieci anni e che è stato scelto dall'istituto italiano di cultura per portare in tutte le sedi del mondo proprio per far capire che l'Italia non è solo una destinazione di arte e cultura che per carità rimangono e sono le nostre pietre migliari ma anche una possibile destinazione di outdoor e in occasione della mostra a Oslo ho organizzato con un ambasciatore che abbiamo lì che è veramente super efficiente una giornata di approfondimento e di presentazione delle nostre aziende di outdoor in Norvegia che è un mercato potenzialmente enorme questo è il Viva Tech Parigi che è uno degli grandi eventi preparatori alle Olimpiadi ci prepariamo alle Olimpiadi voi sapete che l'anno prossimo è un anno olimpico quindi ogni anno noi come Assosport organizziamo un grande evento o a casa Italia o all'ambasciata italiana per raccontare le nostre imprese in occasione delle Olimpiadi e ci focalizziamo anche molto su mettere comunicati stampa che raccontano come alcune medaglie sono frutto ovviamente delle capacità straordinarie dei nostri atleti ma di equipaggiamenti sviluppati a quattro mani con loro oggi il binomio attrezzatura atleta è un binomio fondamentale cioè le nostre aziende sono ancora capaci di esprimere tantissima ricerca e sviluppo collaborando come ascolterete più tardi poi con i politecnici con gli istituti di ricerca e l'attrezzatura è parte integrante delle medaglie quindi il nostro ruolo durante le Olimpiadi è andare a raccontare l'expertise delle nostre aziende che rendono possibile insieme ovviamente a tutte le federazioni le competenze degli atleti il raggiungimento di certi obiettivi agonistici andiamo alle fiere questo è ovvio abbiamo partnership con Ispo Munich Italian Exhibition Group per capirci e Rimini Fitness che organizza a sua volta Dubai abbiamo fatto anche delle cose appunto per comunicare le nostre aziende perché come vi ho detto prima la mia ambizione è far diventare la filiera dello sport sempre più una filiera rilevante nel nostro paese e quindi abbiamo fatto un accordo con Max Corona e con le sue podcast Storie di Brand che è uno dei podcast più rilevanti che parlano di brand abbiamo fatto sei episodi che stanno andando molto bene proprio ieri Max mi ha chiamata era contentissimo e quindi cercheremo di continuare proprio perché anche dietro alle aziende dello sport e non solo ai marchi del lusso più blasonati si celano storie avvincenti questo è più o meno quello che facciamo ovviamente siamo apertissimi a cogliere e a supportare le aziende piemontesi che operano nel settore è un modo smart di connettersi con tutte le aziende italiane quindi cerchiamo di veramente di parlare di trovare occasioni di incontro di scambiarci expertise se questi sono i contatti dell'associazione ci sono anche poi i miei e quindi chi ha voglia è interessato a approfondire sono qua grazie mille grazie per questa occasione allora grazie per questi due primi interventi io direi che aggiungo anche che con Asso Sport stiamo pensando anche di siglare un accordo diciamo di collaborazione che a questo punto guardo anche Paolo Bertolino potrebbe diventare anche un accordo fra tutte le camere di commercio non solo quella di Torino diciamo del Piemonte proprio per mettere in pista anche delle azioni più specifiche che possano ovviamente non riguardare solamente l'area di Torino ma anche le altre province piemontesi allora nel raccontarvi come intendiamo lavorare a partire da oggi prendiamo adesso una strada laterale e entriamo anche nel vivo però della presentazione di quello che è il panorama dell'industria dello sport in Germania il focus di oggi è la Germania avete visto anche i livelli di export che è sicuramente uno dei paesi più importanti per l'export italiano e anche piemontese quindi inviterei adesso qui sul palco a raccontarci un po' quali sono i trend del mercato tedesco Sonia Barani della Camera di Commercio Italiana in Germania e René Lang della Verbandeutscher Mod bene allora mentre mettiamo a punto lo schermo per la presentazione lascio la parola a Sonia Camera di Commercio Italiana in Germania voi sapete che il mondo delle Camere di Commercio ha anche questa parte molto rilevante di attività che viene fatta dalle Camere di Commercio Italiane nel mondo per cominciare a lavorare sul paese abbiamo pensato di appoggiarci in questa fase qui sia a Lice che alla Camera di Commercio Italiana in Germania ma soprattutto con loro stiamo cercando di mettere in piedi un percorso che ci porterà poi all'inizio del prossimo anno anche a far venire degli operatori tedeschi per organizzare poi degli incontri con le aziende del territorio di questo vi racconterò più diffusamente nel mio intervento finale lascio adesso la parola a Sonia grazie mille buongiorno a tutti sono Sonia Barani project manager di ITCAM Camera di Commercio Italiana per la Germania io solitamente sono andato troppo avanti penso che non si vedano ancora ecco adesso si vedano io in realtà mi occupo principalmente di progettazione europea all'interno di ITCAM però già da ormai un anno e mezzo collaboriamo con VDMD che è l'associazione federale tedesca per la moda e il design ha un progetto per promuovere la sostenibilità all'interno del fashion quindi ecco perché mi fa molto piacere essere qui tra voi oggi inizio dicendo proprio due parole sulla nostra associazione noi siamo Camera di Commercio italiana in Germania siamo un'associazione bilaterale di diritto tedesco siamo in Germania già dal 1911 quindi abbiamo una storia che è vecchia di più di 100 anni e abbiamo una sede centrale a Francoforte sul meno più due sedi regionali a Berlino e a Lipsia siamo parte del network delle 81 Camere di Commercio italiane all'estero nonostante abbiamo tre uffici in Germania in realtà siamo attivi su tutto il territorio tedesco e ogni anno diamo supporto a più di 500 aziende italiane per promuovere l'export verso la Germania di diversi settori questa è una brevissima panoramica dei nostri servizi noi collaboriamo con le istituzioni italiane per promuovere l'internazionalizzazione delle aziende italiane verso la Germania con una serie di con una serie di servizi quali l'organizzazione di eventi di missioni imprenditoriali con incontri B2B forniamo anche servizi alla singola azienda che è interessata ad esportare verso la Germania e da più di dieci anni ormai siamo anche molto attivi nell'ambito dei progetti europei vorrei darvi qualche informazione statistica sul mercato dello sport e dell'autore in Germania per fare anche un po' il pandan con la presentazione della signora Ferrino in Germania si può dire secondo me che i tedeschi in generale sono un popolo di appassionati dello sport infatti su una popolazione di 83 milioni ormai ben 33 milioni fanno sport almeno una volta al mese di cui ben 14 più volte a settimana qui c'è un piccolo errore nella slide i 2 miliardi 2,3 miliardi in realtà sono il fatturato del 2023 previsto solo per le vendite in e-commerce gli ultimi dati che ho trovato in realtà per quanto riguarda il retail sono già vecchi di qualche anno ma nel 2019 il retail nel settore sport in Germania quindi abbigliamento articoli sportivi ha raggiunto gli 8 miliardi e è prevista in realtà fino al 2027 una crescita dell'oltre 6% anno questo solo per le vendite in e-commerce però è un settore che è in espansione qui trovate qualche dato dell'eurobarometro che compara la pratica sportiva in Italia e in Germania per darvi un'idea la torta centrale è a sinistra la Germania e a destra l'Italia e invece l'anello esterno è l'Unione Europea in generale come vedete in rosso sono segnate la percentuale di persone che non praticano mai sport mentre in blu scuro le persone che praticano sport più volte a settimana e in blu chiaro le persone che praticano sport con una certa regolarità come potete vedere comparando i dati dei due paesi in Germania solo un terzo delle persone generali quindi che comprende anche anziani e bambini non praticano mai sport rispetto a più della metà in Italia tra le persone che invece praticano sport con molta assiduità abbiamo l'8% in Germania e il 3% in Italia e in generale se paragoniamo questi dati abbiamo in Germania ben il 43% delle persone che praticano sport con una certa assiduità invece in Italia siamo solo al 34% quindi siamo al di sotto della media europea qui trovate una lista divisa per dati demografici di persone che non praticano mai sport però ci dà chiaramente informazioni anche sulle persone che invece lo sport lo praticano in Germania tutte le categorie demografiche sono al di sotto della media europea per persone che non sono attive dal punto di vista dello sport e un dato interessante particolarmente per le persone oltre i 45 anni che sono anche le persone che statisticamente spendono di più esattamente spendono di più per l'acquisto di abbigliamento e articoli sportivi tra i tedeschi che praticano sport regolarmente il 70% pratica più di una disciplina sportiva e tra le persone che sono attive la media è di 6 ore e mezza settimana più o meno che i tedeschi dedicano allo sport il 13% della popolazione totale era membro di una palestra l'anno scorso e un terzo di coloro che sono attivi dal punto di vista sportivo sono iscritti ad un'associazione per quanto riguarda le abitudini di consumo questi sono dati che arrivano da uno studio che è stato realizzato da Deloitte la società di consulenza nel 2020 in media i tedeschi spendono pro capite 725 euro a testa per abbigliamento e attrezzature sportive in un anno in questi dati sono inclusi sia l'abbigliamento sportivo che è circa 120 euro all'anno l'attrezzatura 86 euro più anche le vacanze sportive che anche questa è una pratica molto diffusa in Germania penso anche alla mia esperienza quante persone conosco in Germania che almeno una volta all'anno organizzano una vacanza per fare sport che siano vacanze sulla neve vacanze in bicicletta piuttosto che magari sport acquatici o anche solo le passeggiate le camminate in montagna in questi più di 500 euro sono inclusi sia le spese per vacanze sportive sia anche le fee magari di iscrizione in palestra o ad altri circoli in generale le donne spendono un po' meno degli uomini sono circa 100 euro in meno degli uomini per abbigliamento e attrezzature sportive quindi qui lasciando perdere le vacanze proprio solo per abbigliamento e attrezzature sportive gli uomini spendono circa 100 euro in più e tra coloro che praticano sport il 40% acquista almeno tre volte l'anno abbigliamento articoli sportivi questi sono sempre dati che arrivano da questo studio di Deloitte che ha intervistato 6.000 tedeschi che sono attivi dal punto di vista sportivo nel 2020 più della metà quindi il 60% acquista in negozi specializzati coloro che acquistano in negozio hanno anche la tendenza a spendere di più rispetto a chi acquista online dato interessante è che però molti in realtà più della metà dei tedeschi si informano prima online circa nuovi brand e prodotti prima di andare in negozio quindi andare nel negozio specializzato per l'acquisto perché vanno nel negozio principalmente per la possibilità di provare gli articoli e l'abbigliamento sportivo in loco interessante anche notare che il 40% degli intervistati ricerca informazioni sui social media e più di un quinto avevano scoperto un nuovo brand sui social media negli ultimi tre mesi che è una cifra secondo me molto interessante qui trovate un grafico che mostra come si è come si sono evoluti i dati dell'importazione tedesca nel mercato sport come vedete con la pandemia questi dati sono cresciuti moltissimo al momento nel 2022 sono più di due miliardi di import nel settore sport una parte importante sono i paesi asiatici quindi Vietnam e Cina soprattutto magari per i prodotti di qualità un po' inferiore l'Italia è uno dei paesi come appunto abbiamo visto anche prima da cui la Germania importa di più soprattutto per quanto riguarda i prodotti di qualità qui trovate una lista dei principali marchi dei principali distributori in Germania del settore sport chiaramente Decathlon come un po' direi in tutta Europa fa la parte del leone qui con circa 700 milioni di fatturato netto in Germania questi dati se non sbaglio sono del 2021 poi vedete che abbiamo alcuni distributori multi sport abbiamo sport check e inter sport ad esempio lucky bike che è il terzo addirittura è focalizzato sulle attrezzature da bicicletta e dopodiché abbiamo diversi marchi dell'outdoor quindi abbiamo sia le attrezzature da montagna che il camping abbiamo Bergfront quindi la maggior parte in realtà non la maggior parte ma almeno la metà sono proprio focalizzati sull'outdoor qui trovate anche alcuni dei principali rivenditori online quindi abbiamo dei colossi dell'e-commerce come Amazon Zalando e Otto e poi invece rivenditori che sono focalizzati sullo sport Decathlon e SportCheck chiaramente chi cerca qualcosa di una qualità superiore andrà a cercare anche in alcuni di questi rivenditori che sono focalizzati proprio sull'outdoor o comunque ad esempio sulla bicicletta io lascerei la parola al collega René Lang che invece adesso vi darà una panoramica di quali sono i principali competitor delle aziende italiane sul mercato tedesco no buongiorno no tutti sorry that I'm not able to speak your language so I try to do my very best in English so let's start now I have to introduce myself first my name is René Lang I'm president of the Association of German Fashion and Textile Designers since 2008 and I was involved in I'm designer I was involved in the biggest German department store group called Karstadt maybe you heard the name before biggest disaster in Germany you have and I was specialised in menswear and leisurewear and casualwear and many fields it's quite the same as epic sportswear so sportswear in Germany where are we so I think this is the right this one is the right check here okay sporting goods sporting goods equipment and clothing ensures need for support representing a flourishing market in Germany more than 330 million in Germany do sports at least once a month with over 40 millions of them doing it several times a week the most popular sports are hiking going to the gym and jogging sports enthusiasts can find the right equipment at one of around 4700 sporting goods retailers in Germany the leading companies on the German market include the sport 2000 group and the French retailer chain group Decathlon Nike is absolutely the largest sporting goods manufacturer in the world it is followed in second and third place by two companies from Germany Adidas and Puma everybody knows these names of course with their strong sales and major sports brands are now among most valuable clothing brands in the world market leader in sporting goods and Apple Nike is the largest sporting goods manufacturer in the world it is followed in second and third place by two companies as I mentioned before Germany Adidas and Puma with their strong sales and major sports brands are now also among the world's most available clothing brands also Adidas is clearly beaten by Nike in terms of global sales the sporting goods manufactured based in Herzogenaurach it is very well known in Germany Vavaria it is not always well known and popular in Germany with the sustainable products innovations such as sneakers made from plastic waste and this is one of the very important things for the future in Germany we are really talking about sustainability there are some companies which are really specialized in the future bringing up to the market sustainable architectures and it is really very important for the future to follow these ideas Adidas is ahead in Germany Adidas not only emerged as the strongest sportswear brand in the survey conducted in 22 more than 14 million Germans own Adidas sportswear Nike follows in second place among the leading sports brands with around 9 million users in addition there are over 70.7 million Adidas shoes owners and 2.7 million people who own Adidas backpacks bags and other accessories another very important thing is at leisure the at leisure and calorisaging trends will continue to benefit sporting goods retailers as shuns increasingly wear and use sporting goods in their daily lives interest in exercise health and fitness will continue to grow with sporting goods retailers likely to benefit from increased customer loyalty through partnerships with health and technology brands the aging population will have an impact on sales growth in the sporting goods retail sector to increase sales to increase sales sporting leisure retailers will need to focus on targeting an older demographic and offering affordable solutions for sportswear and equipment with inflation expected to continue well you will remain important to sporting goods shoppers and goods retailers need to promote product quality and the concept of sportswear and equipment as a long-lasting investment a pleasure in this trend 78% of germans are more likely to buy sportswear that is versatile 40% of germans says that the social media helps them to discover sporting goods 22% of germans and social media users have discovered a new brand via social media in the last three months so this ranking just in the moment in germany it changes a little bit because years before number one was soccer everybody in germany likes to play soccer but now in the meantime you see the people getting older and older and it's much better hiking is number one if you say 11.2% followed by a pleasure by a fitness studio using jogging as well the walking as well nordic walking with 6.3% and one of the most interesting points for me just in the moment is cycling because everybody in germany wants to buy an e-bike this is so really important and if you have a big bike and you are outside on the road you must be well dressed and this is quite an interesting story for the industry doing the sporting goods dancing is also with 4.10 points yoga is not so special you see because dancing equipment is only interesting for professionals in normal use everybody tries to have the same as it tries every day and last on this 10 point we have tennis so we start with the most successful manufactures in the hiking segment it's the group called Fjölreven and on the second place this is Vaudi and Vaudi is one of these very very interesting and important companies in germany because they are really related on things about sustainability much of them more than 80% of the articles that they're doing are made out of recycled PET plastics and this is really quite interesting and on place number three we have Ortovox these are the most successful articles from these companies from Fjölreven we have the so-called GERP jacket from Vaudi there is stretch Tzip pants number two and from Ortovox Swisswool we call it Pitz Moval jacket you see the jackets are very important because you can use it all over the day if it's cold outside so next interesting thing as I mentioned before it's leather wear place number one okay it's Nike Adidas and three is Puma the most important articles here you see you see these articles not only in the you see it also on the street because it's sportswear casual wear and street wear all in one the first number one is the fleece hoodie from Nike second one threefold hoodie a sweater hoodie and next is also a hoodie you see the hoodies are really really very important articles in Germany not only for sports but also in daily life there's a little bit different rankings especially we start with jogging jackets Adidas is number one and really pants it's Asics and t-shirts we have Nike jogging leggings we have Nike and in jogging shorts as well Nike so it's there's only one one company called New Balance which is on top for the jogging pants and these are the most important and successful articles we have an outdoor jacket with Rachel you know these three stripes from Adidas number two is one from Asics winter tight and Nike dry fit men's running t-shirt and especially for ladies Nike epic looks running tights and as well on this place Nike temple running shorts also for ladies these are the most successful articles from these companies now we come to the part of walking walking is also very very interesting Germany most interesting and most successful company is Jagwalskin second place the North Face and on third place we have gorewear and these jackets of course you are also wearing outside every day there are some more very interesting companies for example called the North Face it's very well known we have Luchta it's also very important group in Germany but you know these items are not made specially only for sports it's outside live outdoor living so now we have soccer playing in it's also in Germany a very important topic especially for men in the meantime also for women you know heard about our national team so first place absolutely is Adidas second place is Puma and third place is Nike so the most successful outfit from the first company Adidas is the team theme from our national team in Germany and sorry we are not so successful in just in the moment in soccer I hope it will be changing in the future Puma's most next year I hope so maybe maybe this has to be a change maybe we have to change the trainer again and again and again second place we have Puma with Borussia Dortmund this is the second team behind the Bayou Varian team also very well known in Germany and now we have tennis clothing this is a little bit more special than the other outdoor sports number one we have here is Adidas number two is Nike and number three is head so you can read to see they are very well known in tennis sports so now the special part because it's much more interesting for me is talking about cycling this is cycling normal cycling cycling with e-bikes and of course cycling with racing racing bikes but it's most important thing is cycling with e-bikes now cycling clothing is very successful in Germany with the increasing popularity of cycling as an environmentally friendly and healthy method of transportation the demand for special clothing for cyclists is also growing this clothing not only offers comfort and functionality when riding but also safety and visibility in traffic there are also a large number of German brands that produce high quality cycling clothing and enjoy great popularity overall it can therefore be said that cycling clothing is very successful in Germany and plays an important role in the field of cycling the cycling market has developed possibilities of recording steady growth that's mainly due of several factors increasing environmental awareness due the growing environmental awareness more and more people are opting for cycling as an environmentally friendly method of transportation thanks a lot for the water you see I'm getting more and more dry here this leads to an increasing demand of appropriate cycling clothing second very important point is health awareness the promotion of healthy lifestyle and the rising popularity of recreational and sports cycling have also led to increased demand for specialized cycling apparel third technical innovations the cycling apparel industry benefits from constant technological innovations that improve the functionality safety and comfort of clothing this also contributes to the attractiveness of the market first point growing popularity of cycling events the increasing popularity of cycling events such as cycling races mountain bike tours or cycling festivals have further boosted the demanded for high quality cycling clothing overall it can be said that the market for cycling clothing in Germany is benefiting from the several positive trends and is therefore continuing to develop positively it can be assumed that demand for specialized cycling clothing will continue to rise in the future so we have here the rank of the manufacturers here first place is Gorware second place Castelli Essis Baude Rafa Endura Adidas you see Adidas here only on the seventh place Löffler Gonzo and Gorware is the first name most successful cycling products are generally high quality and functional products that are popular with cyclists these include for example cycling jerseys cycling shorts cycling jackets cycling gloves and rainwear for cyclists Gorware is known for its high-tech quality materials and innovative technologies that offer optimum performance and comfort in cycling Gorware also offers accessories such as cycling caps arm warmers leg warmers and overshoes which are popular with cyclists so we come to number two Castelli I think it's an Italian company Castelli must be from Italy so the benefits from all the companies are more or less the same and SOS as well and this is my special request is Vaudi because Vaudi this company is really one of the most interesting for me what is most of cycling products are generally high quality and functional products that are cyclists these include for example cycling jerseys short shakers and things like that but the most important thing is Vaudi is absolutely sustainable was the first company in Germany who was tasked with recycled PET bottle garment and this makes it very worthy for the future so last one please we're talking about shoes and talking about the sneakers absolutely number one in Germany just in the moment is Nike followed by Edidas and third place it's Puma so the most important and successful article for the sneakers and the sport shoes by Niki is Nike Air Force number one followed with Adidas Superstar and the last it's Puma suite and that's it from my side for today many thanks for your attention have a nice day thank you thank you thank you René and Sonia for your interesting and very detailed presentation I guess some from the audience can have some questions but we will reserve the time for questions at the end of the presentations so adesso possiamo continuare con la presentazione e chiamo qui sul palco e dunque paola fontana poi in tex polio innovazione tessile città studi di biella e ada ferri professoressa del politecnico di torino dipartimento scienze applicate tecnologica e tecnologica rispetto al programma non è presente la rappresentante del licee la dottoressa milena del grosso che ci ha avvertito all'ultimo momento di non poter essere presente e in ogni caso poi riserveremo anche nella parte finale in cui presenteremo le attività anche lo spazio delle attività che poi vogliamo sviluppare anche in collaborazione con licee. Allora io a questo punto adesso entriamo in questo percorso che stiamo facendo in Italia dopo la presentazione fatta del mercato tedesco per raccontare un po' all'inizio quali sono i finanziamenti per le imprese e i casi di successo europei ad opera dottoressa Fontana e poi quali sono i progetti di ricerca e sviluppo per le aziende del settore tecnico in Piemonte e una presentazione che verrà fatta dalla professoressa Ferri. Allora a lei la parola. Buongiorno a tutti. Io sono Paola Fontana, sono la project manager di Pointex, il polo di innovazione testile della regione Piemonte che ha sede a Biella però è aperto a tutte le aziende anche non soltanto che hanno sede in Piemonte. Vi racconterò alcuni casi di successo europei e alcuni finanziamenti che sono ad oggi ancora aperti per le imprese che vogliono presentare le loro proposte progettuali che hanno sede in Piemonte ma appunto anche al di fuori dalla regione Piemonte. Partirei con una breve presentazione di Pointex per chi ancora non ci conosce anche se vedo in sala alcuni tra i nostri associati. Pointex è sostanzialmente un'associazione di imprese, siamo un centinaio di associati, 104 in realtà, quasi tutte piccole e medie imprese appartenenti alla filiera testile. Questo non significa soltanto testile per abbigliamento ma anche testile per arredamento, testili diversificati e testili tecnici in generale. Il gestore di Pointex è Cista Studi che è un ente che si occupa essenzialmente di formazione. Come attività nostre noi lavoriamo essenzialmente sul trasferimento tecnologico quindi supportiamo le imprese a collaborare anche con i centri di ricerca sia italiani sia internazionali, sia pubblici sia privati. Abbiamo una serie di attività di networking, lavoriamo anche sull'internazionalizzazione grazie ad alcuni progetti europei di cui siamo partner e anche a dei lavori che facciamo insieme a Regione Piemonte. Lavoriamo sui bandi regionali, da un lato supportando la Regione nella predisposizione dei bandi e dall'altro aiutando le imprese a partecipare ai bandi stessi e a questo proposito abbiamo proprio un servizio specialistico dedicato ai nostri associati. In sostanza forniamo un supporto grazie anche all'esperienza che abbiamo noi ci occupiamo di bandi regionali dal 2009 e quindi siamo felici di aiutare le nostre imprese a presentare delle proposte progettuali che poi auspicabilmente verranno finanzate dalla Regione. Organizziamo eventi, seminari, workshop e quant'altro e ci occupiamo di formazione in quanto il nostro gestore città studi si occupa di formazione. Non siamo da soli, si è parlato anche di collaborazione, anche prima degli interventi che mi hanno preceduta. Noi siamo all'interno di un sistema che si chiama sistema poli Piemonte insieme agli altri sei poli di innovazione della Regione che non si occupano di tessile ma che vedete elencati qui nella parte superiore della slide e che appunto si occupano di tutta una serie di attività che comunque con il tessile possono avere molto a che fare. Noi abbiamo fatto numerosi progetti con aziende non specificamente tessile ma afferenti ad altri settori comunque che hanno a che fare con il tessile. Questo progetto è finanziato da Regione Piemonte e ci occupiamo anche di supportare la Regione in alcune delle sue attività. Insomma non entro nel merito dei dettagli se volete ne approfondiamo a seguire. L'ultima cosa che volevo dirvi su Pointers è che noi abbiamo alcuni progetti europei che sono in corso o in alcuni casi appena terminati comunque sono progetti di varia natura a partire da progetti che si occupano di aiutare le piccole e medie imprese in ambito internazionale come il primo che supportava le imprese nell'ambito di tessili dedicati al settore della difesa che comunque hanno parecchi punti in comuni con il settore sportivo soprattutto per alcune parti di attività che vanno fatte outdoor. Poi abbiamo un progetto che invece si occupa di formazione su tutti i livelli dagli studenti universitari alla VAT ai professionals. Il progetto Rigio Green Techs che invece è un progetto sulla sostenibilità e sul recycling hub e poi tutta una serie di progetti e un network molto importante che si chiama Eutex Style 2030 che raggruppa tutti i cluster principali che si occupano in Europa di tessile tecnico. I casi di successo europei che volevo presentarvi oggi sono dei casi di successo stati finanziati dal progetto europeo SmartX che è appena terminato e che è stato finanziato da Horizon 2020 e che a sua volta ha potuto finanziare grazie al meccanismo di cascading funding 25 progetti europei fatti da una cinquantina di piccole e medie imprese start up. Vedrete tra i progetti che presenterò che ce ne sono diverse tra queste imprese che hanno sede in Germania perché il tessile tecnico, comunque la parte tecnologica in Germania è un settore molto presente e molto seguito anche dalle piccole e medie imprese. Farò un breve accenno per ciascuno di questi progetti. Il primo si chiama Key Infinity che è una benda Smart che permette di tracciare i movimenti dell'atleta. Questo dispositivo è connesso a una app che permette proprio di monitorare in tempo reale i movimenti degli atleti e permette appunto di migliorare la loro performance sportiva analizzando i documenti. L'azienda, come dicevo, è un'azienda tedesca. Il progetto SensoMascol invece è un progetto che ha sviluppato un sistema di elettrostimolazione in sostanza in grado alla fine del lavoro dell'atleta di fare una sorta di stimolazione elettrica per migliorare il riposo dei muscoli dopo l'attività sportiva. Anche qui è connesso con una smart, con un'app molto semplice da utilizzare e che permette di scegliere il programma desiderato di post allenamento. Questo è un progetto che ci ha subito incuriositi perché come applicazione ha messo da un lato l'applicazione medicale e dall'altro l'applicazione sui cavalli. Quindi abbiamo subito detto insomma che cos'è questa cosa. In realtà è un dispositivo che si presta a più applicazioni perché permette di misurare la respirazione. Quindi da un lato c'è tutto il discorso anche medicale oltre che sportivo di misurazione tramite questa app del respiro del paziente e questo dispositivo tra l'altro è in grado anche di misurare altri parametri vitali come per esempio la saturazione dell'ossigeno ed è utile in pazienti non soltanto sportivi ma proprio a livello medicale in pazienti che hanno dei problemi respiratori anche dovuti a covid e malattie di questo tipo. Dall'altro lato c'è tutta la parte sportiva in questo caso non applicata a un uomo ma applicata ai cavalli perché i cavalli da competizione spesso sono sottoposti ad allenamenti molto impattanti che possono causare anche dei problemi all'animale per cui il fatto di monitorare questo respiro serve proprio a garantire anche la salute dell'animale e quindi a migliorare anche le sue performance. Anche qui la start-up coinvolta era tedesca e ha lavorato con una piccola media impresa danese. Questo progetto anche come il precedente misura l'attività muscolare però in questo caso mediante un sistema di elettromiografia e anche qui è in grado di monitorare il lavoro dell'atleta e di supportarlo negli esercizi post allenamento e anche in parte di sostituire la parte di fisioterapia nel caso in cui l'atleta abbia avuto dei problemi. Questo è l'unico progetto che presento che è stato sviluppato in Italia da due aziende del centro Italia e si chiama SWIMAX e consente di monitorare le perdite di sali tramite l'analisi del sudore tramite un biosensore che viene applicato a una maglietta solitamente strettamente connessa e integrata a livello tessile appunto misura quanto l'atleta sta perdendo sali minerali e quindi tramite una app dedicata è in grado di suggerire all'atleta quando deve idratarsi per garantire una performance sportiva il più possibile ottimale. Questo progetto invece è stato sviluppato da un'azienda spagnola in collaborazione con la FIA l'International Automobile Federation che è un progetto che ha sviluppato una maglietta da intima da indossare da parte dei piloti e questa maglietta è in grado di monitorare tutta una serie di parametri vitali tra cui l'elettrocardiogramma, la velocità del respiro, la temperatura corporea e quant'altro anche qui allo scopo di garantire da un lato una migliore performance sportiva ma dall'altro lato anche la salute e il benessere del pilota durante la competizione. La maglietta è fatta in parte in materiale naturale 38% e in parte in fibre sintetiche proprio per fornire il giusto grado di comfort e di protezione anche dal fuoco cosa assolutamente necessaria per i piloti automobilistici. L'ultimo progetto che vi presento si chiama KIT e anche qui si tratta di un sensore tessile applicato a una sorta di ginocchiera comunque un prodotto tubolare che va indossato dall'atleta e permette di misurare il movimento dell'atleta ed è un prodotto che può essere applicato in ambito sportivo in ambito fitness e anche qui in ambito di fisioterapia. Come dicevo tutti i progetti che ho presentato sono stati finanziati dal progetto SmartX che è terminato come progetto però sta continuando i suoi lavori sia tramite una community decisamente molto attiva sia tramite un hub che è appena stato creato dalla piattaforma tessile europea ATP della quale noi come Pointex siamo membri se volete delle informazioni sulle attività che in parte sono citate qui del nuovo Innovation Hub potete sicuramente contattarci si parla di webinar, di workshop, di visite on site di visite guidate durante le fiere insomma tutto quello che è connesso agli smart textiles che comunque hanno un ambito di applicazione molto vario qui abbiamo parlato solo del discorso sportivo perché l'evento parla di sport però il progetto SmartX ha sviluppato diversi altri casi di successo in ambiti diversi da quello sportivo se questa carrellata vi ha fatto venire voglia di presentare una proposta progettuale spero di sì vi presento, vi illustro ora con due slide uno dei bandi che è attivo in questo momento in quasi tutte le linee questo bando si chiama Switch è un bando emanato dalla regione Piemonte e permette di fornire supporto alle aziende che vogliono fare ricerca sperimentale, industriale e anche commercializzare il loro prodotto è un bando strutturato in due linee la linea 1 è dedicata più alla parte ricerca e innovazione quindi è la parte precedente infatti ha un TRL più basso un grado di maturità tecnologica più basso e appunto riguarda la parte di ricerca e sviluppo la seconda parte nella linea 2 invece è più legata alla commercializzazione quindi il concetto è ho già un progetto che può essere un prodotto oppure una tecnologia che funziona la voglio commercializzare per questo richiedo i finanziamenti della regione i beneficiari sono piccole e medie grandi imprese che possono partecipare sia da sole sia in collaborazione con altre imprese nel caso delle piccole imprese possono presentare da sole nel caso delle grandi imprese devono avere almeno un partner che è una piccola e media impresa la sede è sede operativa in Piemonte ma anche in piccola parte possono accedere aziende che lavorano che hanno sede operativa al di fuori della regione e poi possono partecipare anche gli organismi di ricerca le tematiche sono numerose quindi chiaramente si deve afferire o alla transizione digitale o alla transizione ecologica o all'impatto sociale e territoriale però diciamo che l'ambito è decisamente vasto per cui ci sono possibilità di accedere le tematiche appunto anche qui sono molto varie aerospazio, mobilità, manifattura avanzata tecnologie, materiali, risorse verdi, food e salute per cui insomma credo che ci sia possibilità per tutti di avere un progetto che rientra in queste aree tematiche poi se volete vi possiamo comunque dare un supporto su tutta questa parte concludo con l'intensità di aiuto di finanziamento questi sono bandi che hanno una percentuale interessante di fondo perduto che arriva fino al 60% per le piccole imprese e micro imprese arriva fino al 50% per le imprese che hanno una dimensione media e per le grandi imprese mid caps e small mid caps arriva al 40% gli organismi di ricerca sono finanziati fino al 60% questa è l'intensità massima che si arriva tramite progetti per esempio in collaborazione ci sono, adesso non l'ho messo nelle slide tutti i dettagli siamo chiaramente a disposizione per parlarne anche in un momento successivo però mi faceva piacere comunque indicare almeno l'intensità massima alla quale si può richiedere finanziamento si può riferire per richiedere finanziamento per quanto riguarda investimenti e contributi ci sono due tipologie la prima parte riguarda la linea 1 quindi i progetti di ricerca e sviluppo di cui ho parlato prima che presuppongono investimenti minimi dai 300 mila euro al milione e mezzo e permettono di ottenere contributi da un milione a 5 milioni per l'altra linea quella invece più legata alla fase di commercializzazione si parte da un investimento da 300 mila a un milione di euro e si può ricevere un contributo da 2 milioni a 3 milioni di euro tenete conto che questi investimenti questi contributi sono riferiti a progetti che durano dai 24 ai 30 mesi per cui sono da spalmare all'interno almeno di un paio di anni i costi ammissibili sono i costi classici diciamo dei progetti regionali ma anche europei quindi tra questi ci sono personale essenzialmente dipendente anche delle consulenze materiali e forniture la realizzazione di piccoli prototipi non di macchinari ma di piccoli prototipi sì i costi di proprietà intellettuale poi costi diretti spese generali e quant'altro questo bando aperto ad oggi si chiuderà il 31 di gennaio ci sono alcune linee che si stanno chiudendo adesso però in ogni caso a partire dall'anno prossimo la regione Piemonte emanerà anche un bando successivo quindi il nostro consiglio è in ogni caso se siete interessati iniziate a lavorarci e se non si riesce a presentare una proposta progettuale oggi ci saranno sicuramente nei prossimi mesi delle altre possibilità se siete interessati noi chiaramente siamo qui per sopportarvi spero di essere stata nei tempi avevo messo il cronometro apposta vi ringrazio e resto a disposizione per qualsiasi approfondimento grazie molto interessante direi che forse anche qui qualcuno potrebbe avere qualche domanda da porre ma come è stato detto anche durante il networking launch poi alla fine ci sarà la possibilità di incontrarsi e di scambiare qualche informazione adesso lascio la parola alla professoressa da ferri che diciamo completa questo momento dedicato un po' alla parte di supporto progettuale per le aziende del settore a lei la parola buongiorno a tutti intanto ringrazio Camera di Commercio per l'invito come dicevamo prima io mi occupo di tessile sportivo ormai da una quindicina d'anni e coordino un laboratorio del Politecnico di Torino che si chiama Comfort Lab quindi nell'agenda di questa presentazione io vi parlerò della metodologia di ricerca applicate al mondo del tessile sportivo principalmente attraverso test in laboratorio su atleti e vi presenterò poi alcuni casi studio un paio di casi studio del nostro Comfort Lab Siccome sono una professoressa e c'è un po' una deformazione per fare dei pipponi sulla parte teorica vi faccio soltanto una brevissima introduzione al tema per contestualizzare questa ricerca che svolgiamo presso il Comfort Lab e l'inizio diciamo tutto sta in quella formuletta che vediamo riquadrata che un altro non è che il bilancio termico al corpo umano come esseri umani siamo adattati a vivere in ambienti molto diversi rispetto agli animali che invece sono molto specializzati per il loro ambiente noi invece ci siamo adattati ad ambienti molto estremi anche proprio grazie all'isolamento termico che siamo in grado di regolare con l'abbigliamento che indossiamo quindi questi strati di abbigliamento uno o più strati di abbigliamento che fanno da interfaccia tra il corpo ed ambiente ci hanno permesso di vivere un pochino dappertutto nel mondo poi quell'equazione non andiamo troppo nel dettaglio ma alla fine si tratta di bilanciare il calore generato e il calore scambiato con l'ambiente sappiamo che durante la pratica sportiva si sviluppa molto calore e questo è dovuto al fatto che noi non siamo molto efficienti nel trasformare il nostro combustibile il cibo in potenza meccanica la nostra efficienza è bassa quindi questo vuol dire che quando abbiamo bisogno che il motore vada molto forte quindi dobbiamo fare un'attività fisica molto intensa ci portiamo dietro necessariamente una grossa quantità di calore da scambiare le attività fisiche lo sappiamo tutti sono impegnative nella tabella vedete quanto ossigeno serve per bruciare il cibo diciamo il carburante per produrre per fare una certa attività sportiva quindi fisiologicamente ci portiamo dietro questa gran quantità di calore come la smaltiamo la smaltiamo soprattutto attraverso la pelle in piccola percentuale attraverso la respirazione e proprio perché la nostra pelle è coperta per la maggior parte da capi di abbigliamento è cruciale il ruolo di questi capi di abbigliamento ci sono vari meccanismi e quindi tutto quello che noi indossiamo deve essere in grado di effettuare effettivamente questo lavoro di scambio termico con l'ambiente allora dopo il piccolo pippone passiamo alla ricerca e quindi come possiamo fare per sviluppare dei capi di abbigliamento delle attrezzature particolarmente performanti già insomma un ricercatore tedesco proprio visto che c'è un focus sulla Germania propone questa piramide del comfort noi possiamo sviluppare capi di abbigliamento sportivo analizzandoli su vari livelli possiamo partire dal il primo livello della piramide facendo semplicemente delle analisi sui tessuti questi di solito ai brand glieli fornisce il fornitore con la scheda tecnica del tessuto però non basta sapere come si comporta il tessuto perché poi c'è tutto un know-how legato alla confezione del capo alla vestibilità e anche la vestibilità ha un ruolo sugli scambi termici quindi al secondo livello della piramide possiamo avere i test sui manichini i manichini sono ancora macchine ma sul manichino posso provare il capo di abbigliamento completo il livello 3 invece sono i test in laboratorio in cui per la prima volta coinvolgiamo dei soggetti umani che daranno anche un feedback soggettivo ed è questo quello che fa il comfort lab in cui lavoro al quarto livello abbiamo i test in campo cioè molto spesso i brand si affidano ai loro tester i loro atleti elite che conoscono molto bene lo sport che stanno praticando ed hanno un feedback molto puntuale all'azienda sui nuovi prodotti che ha sviluppato e che intende mettere in commercio quindi normalmente si lavora sul livello 1 o sul livello 4 livello 2 i manichini termici non ce ne sono molti in Italia ce l'hanno al centro cot e penso pochi altri però in realtà focalizziamoci su questo livello 3 abbiamo detto che possiamo fare test coinvolgendo un panel di tester e c'è proprio questa presentazione vi racconto di varie normative ISO che regolano perché poi alla fine dobbiamo essere in grado di fare delle attività che le aziende possono replicare in altri laboratori in maniera standardizzata quindi questa ISO 9920 fornisce le linee guida per valutare l'isolamento termico e la traspirabilità da test da test in vivo ora non andiamo tanto nel dettaglio ma questo cosa vuol dire vuol dire che in un laboratorio in cui riproduciamo quelle che saranno le condizioni di utilizzo del capo andiamo a sensorizzare atleti che svolgeranno un'attività il più possibile simile all'attività che svolgeranno in campo e monitoriamo una serie di parametri fisiologici cioè dobbiamo quantificare tutti quei termini che erano riportati nell'equazione al corpo umano con questa norma possiamo valutare attraverso test in vivo sia l'isolamento termico che la traspirabilità di un singolo capo o di tutto l'outfit complessivo che stiamo indossando la cosa bella di lavorare sul livello 3 della piramide cioè di avere anche il soggetto umano e non solo una macchina è che possiamo combinare un feedback oggettivo come le misure dello stress termico con un feedback soggettivo abbiamo anche qua una isola 10.551 che ci fornisce delle scale ci suggerisce delle scale da utilizzare per intervistare i nostri atleti e raccogliere da loro delle informazioni riguardanti il loro comfort e il loro stress termico quindi qua è riportato ad esempio la scala termica la scala termica è la tipica scala bipolare che va da una condizione di neutralità che è desiderata a un molto freddo molto caldo e a questo punto possiamo quindi vedere qualche esempio di progetti che abbiamo sviluppato nel nostro laboratorio noi lavoriamo sia con aziende che vogliono provare i loro capi di abbigliamento sviluppare nuovi capi di abbigliamento confrontarli con quelli dei competitor siccome sappiamo che le aziende sono medio piccole quindi la forza il potere diciamo la potenza economica non è limitata cerchiamo anche di aiutare le aziende sviluppando progetti collaborativi su bandi competitivi questo è uno schema piccolino del nostro laboratorio in cui il cuore è proprio questa camera climatica dove noi possiamo simulare quegli ambienti estremi di cui parlavamo prima da meno 40 più 50 il primo esempio di lavoro di cui vi voglio parlare è un lavoro in corso che abbiamo con un'azienda di calzature per l'arrampicata questo è un progetto finanziato parzialmente dal mur quindi dal ministro dell'università e parzialmente dall'azienda supporta una borsa di dottorato di un dottorando che lavora per tre anni su questo progetto in questo progetto abbiamo cercato di in primo luogo abbiamo dovuto cercare di simulare il più possibile l'attività di utilizzo di questi scarponi e quindi abbiamo progettato quella struttura che vedete nell'immagine che ha permesso di simulare l'arrampicata su ghiaccio perché uno di questi scarponi era utilizzato nell'arrampicata e questo è uno dei tester dell'azienda come dicevamo l'azienda spesso si avvale di atleti d'elite quindi ci ha prestato questi atleti d'elite per svolgere dell'attività in laboratorio e nella nostra camera climatica abbiamo settato temperature tra i meno 30 e i meno 15 a seconda dello scarpone uno degli scarponi quello più grande che vedete è uno scarpone esclusivamente per spedizioni malayane quindi viene utilizzato soltanto in determinati ambienti il tipo di attività è un tipo di attività diversa quindi quello che abbiamo fatto è stato di valutare una serie di parametri fisiologici e di confrontarci anche con la letteratura in cui è risaputo che la temperatura dell'alluce è la temperatura più bassa nel piede ed è quello che rischia di più diciamo in caso di congelamento tra l'altro è abbastanza peculiare che questi tipo di calzature non devono rispettare nessuna norma a differenza delle calzature da lavoro insomma per cui sono richiesti dei test anche di isolamento termico se parliamo di sport in questo caso non c'è nessuna norma specifica di riferimento comunque come vedete per il pollice effettivamente cadiamo in quell'intervallo tra i 15 e i 20 gradi di temperatura in cui cominciamo a percepire dolore una cosa molto interessante che si può fare è anche di combinare manichino e sport e test in vivo questi sono test su manichino in cui possiamo valutare qual è l'isolamento termico che sta indossando l'atleta e lo possiamo anche confrontare con un livello di isolamento termico minimo o richiesto un po' come si fa con i sacchi a pelo in cui abbiamo due temperature la temperatura di comfort quindi dormirai in maniera confortevole tutta la notte e la temperatura di sopravvivenza magari non dormi neanche 10 minuti ma la mattina dopo ci arrivi vivo beh qua si vede poco comunque abbiamo fatto abbiamo questo mostra diciamo alcuni grafici che mostrano come quando fai attività fisica la temperatura del piede rimane molto più stabile quindi le situazioni più critiche ovviamente si hanno quando non stai facendo attività fisica in cui abbiamo un calo di temperatura drastico e qua possiamo intervenire con più o meno isolamento termico a seconda dell'intensità dell'attività fisica che verrà sviluppata l'altro caso studio che vi presento è invece un progetto regionale finanziato col precedente bando della regione Piemonte Brandoprisme che abbiamo svolto in collaborazione con un'azienda piemontese sparco e qua siamo all'altro estremo dell'ambiente estremo nel senso che dai meno 30 andiamo ai più 50 perché nell'abitacolo dell'automobile queste sono le temperature che si possono realizzare qui invece abbiamo tutto un framework normativo sono state già nominate prima le norme FIA della federazione internazionale per l'omologazione di tutti questi capi di abbigliamento in questo caso abbiamo lavorato quindi in camera climatica questa volta con un simulatore quindi abbiamo anche in questo caso cercato di simulare il più possibile l'attività che viene svolta anche se non è così semplice riprodurre il livello di stress che un atleta ha durante la competizione e quello che abbiamo pensato è stato un po' di prendere spunto dall'abbigliamento protettivo dei vigili del fuoco che molto spesso hanno un abbigliamento riflettente allora quando l'ambiente è più caldo del corpo più che dissipare noi dobbiamo proteggerci dall'ambiente esterno e in effetti abbiamo provato la tuta tal quale la tuta coperta da quelle copertine riflettenti che si danno magari alla fine di una competizione sportiva le maratone al freddo distribuiscono agli atleti e poi magliette e pantaloncini le temperature più elevate gli aumenti di temperature si vedono principalmente in magliette e pantaloncini perché lì è l'ambiente ad essere più caldo del tuo corpo quindi tu hai bisogno di una schermatura come possiamo raffreddarci in questi ambienti molto caldi con l'evaporazione quindi qua diventa cruciale la traspirabilità e quello che viene chiamato evaporative cooling ma non è molto semplice per un pilota che si trova seduto in una sedile molto avvolgente con vari strati di capi di abbigliamento riuscire ad evaporare quel sudore che ha prodotto infatti come vedete da questa tabella il sudore rimane tutto quasi tutto nel capo dell'abbigliamento per cui non possiamo neanche fare affidamento sul raffrescamento evaporativo con le termocamere poi possiamo anche vedere dove si accumula questo sudore e andare a fare quelle differenziazioni quel body mapping che permette poi di sviluppare traspirabilità differenziate quindi in conclusione esistono standard internazionali che ci danno queste linee guida per svolgere test in vivo sulla prestazione dell'atleta con un focus sull'abbigliamento sportivo la misura di questi parametri fisiologici dà delle informazioni sono importanti e queste informazioni sono particolarmente importanti in ambienti estremi non ho menzionato un importante progetto che abbiamo avuto sugli design ma di questo parleremo più tardi in un altro intervento io vi ringrazio per l'attenzione grazie molto interessanti entrambi gli interventi allora io chiamo qui sul palco adesso per i prossimi interventi di nuovo Anna Ferrino e chiamo anche I invite also Ansem Nake PhD Dresden University for your presentation thank you so let's begin with Anna Ferrino and his presentation cooperazione pubblico privato nel settore sport un caso di brevetto nazionale e semplicemente lo spirito era far vedere un caso di un'azienda piemontese appunto la mia che ha collaborato attivamente su un progetto pluriennale con con Adaferi e il suo team e il Comfort Lab di Biella quindi non è tanto un tema di entrare nelle pieghe scientifiche dove sicuramente Ada se mi sente esporre il suo progetto le verranno tutti i capelli dritti in testa quindi la prego di intervenire assolutamente ma semplicemente per presentare a voi le opportunità che un tipo di collaborazione come questa può portare i dipartimenti di ricerca e sviluppo delle nostre aziende al prossimo livello nel senso che noi da sempre facciamo prototipia ricerca e sviluppo internamente con un approccio un po' a open innovation dialogando soprattutto con i nostri atleti o con i membri del soccorso alpino o di vari organismi per i quali noi progettiamo attrezzatura sicuramente anche i test sul campo come Ada anche ha ricordato sono importanti ma se vuoi veramente avere un approccio più scientifico e portare il progetto a un prossimo livello è meglio farlo con chi fa di quel tipo di ricerca il suo mestiere e quindi è un privilegio avere in Piemonte questo tipo di struttura e questo tipo di vantaggio allora passando velocemente appunto noi ci siamo abbiamo fatto questo progetto pluriannale anche grazie al bando Prisme che veniva ricordato prima e con questo tipo di partennariato che appunto ci ha reso possibile due grandi progetti che l'azienda ha fatto recentemente in ambito ricerca e sviluppo uno è questo e un altro molto interessante anche rispetto a degli zaini per le ambulanze medicali perché Ferrino non è solo outdoor ma è anche protezione civile e anche militare ma non potendo usare troppo tempo ci concentriamo su quello dell'outdoor appunto questo era l'ambito sviluppo di zaini da trekking innovativi e migliorare all'interno di questi prodotti il comfort ergonomico termofisiologico e la sicurezza e ridurre il costo metabolico era essenzialmente l'obiettivo centrale quindi in sintesi far traspirare capire come aumentare anche in un benchmark competitivo la traspirabilità dei dorsi dello zaino che è ancora un aspetto critico legato al comfort e all'esperienza di utilizzo dello zaino lo abbiamo fatto con queste fasi fase 1 2 3 quindi prima ricerca analisi poi lo studio degli schienali e infine lo studio di uno spallaccio innovativo e appunto qua come dire metto in sequenza tutte le attività che sono state fatte da dal comfort lab ma non credo che dobbiamo rientrare nei singoli capitoli perché Ada è stata super efficiente nella sua presentazione quindi è semplicemente un applicativo diverso del suo modello di ricerca e del modello di utilizzo del comfort lab abbiamo testato appunto temperatura umidità e sudurazione dei dorsi dello zaino in camera climatica come potete vedere prima c'era il climber poi il pilota e in questo caso c'è un hiker perché l'attività specifica di utilizzo era l'hiking e appunto queste sono delle immagini e dei testi che spiegano un po' il processo che si è sviluppato con questo progetto pluriannale di ricerca l'indagine termografica l'analisi di 13 campioni di materiali diversi rispetto appunto alle loro performance di permeabilità all'aria alla gestione del liquido e all'asciugatura le varie tabelle comparative che appunto sono e le prime conclusioni e le prime applicazioni era stato migliorare intanto le performance di uno schienale in eva con un occhio molto attento al peso nell'industria dell'audore in generale dell'hiking in particolare il peso è una grandissima variabile ed è una grandissima variabile competitiva che i nostri consumatori ricercano con grande attenzione c'è un'ossessione al peso che però deve lo stesso cioè da parte delle aziende benissimo il peso ma comunque io ti devo dare le performance cioè posso alleggerire la parità di performance quindi questo equilibrio estremamente delicato e sono stati appunto sviluppati dei nuovi concept di disegno di schienali che potevano effettivamente agevolare la traspirazione supportata appunto da tutti i test scientifici del caso e abbiamo lo potete vedere nella parte di sinistra c'è come era leva modellata leva nello schienale old del modello precedente e come è stato possibile ridisegnare leva del modello attuale che effettivamente dopo 50 minuti di utilizzo come potete vedere dalla termografia ha migliorato le performance e quindi questo abbiamo applicato i primi output della ricerca sul migliorare lo schienale di uno dei nostri best seller il modello agile e poi siamo andati oltre e si è deciso aspetta che ho perso il coso di occuparci anche degli spallacci che sono comunque un punto di contatto molto importante e quindi abbiamo fatto delle analisi sui materiali e su come i materiali cioè le schiume leva potevano interagire con il guscio protettivo della schiuma che può essere appunto con o senza rete qua sono tutte le varie slide delle sessioni di test delle prove di trazione perché a questo punto è intervenuto un secondo attore che è l'università di Bologna nella business unit del professor Colonna che è specializzato nello studio che appunto Eva Ada ci ha presentato che è specializzato nello studio nell'applicativo nell'industria sportiva dei materiali auxetici e quindi avevamo pensato cioè lui ha suggerito di cambiare il materiale e utilizzare questo tipo di materiali per migliorare le performance sia di traspirazione che di comfort degli spallacci degli zaini e queste sono appunto le prove di trazione di questi spallacci e questo è l'output quindi con questo progetto che è in corso di in applicazione di brevetto otteniamo una maggiore traspirabilità rispetto agli spallacci tradizionali un maggiore comfort termico e tra l'altro una distribuzione molto più uniforme e confortevole del carico effettivamente anche il test sul campo con i nostri ambassador e i nostri atleti professionali che hanno già avuto modo di utilizzare i primi prototipi quest'estate conferma quello che è stato lo studio di laboratorio e abbiamo appunto presentato questi nuovi questi sono i disegni del brevetto e questo è il prodotto finale quindi lo zaino combina una tecnologia auxetica con un sistema di rete dorsale in dry net system che è comunque una rete che già isola il dorso dalla schiena favorendo il ricircolo d'aria e la traspirabilità e il comfort di trasporto e questo è l'output finale di tutto il lavoro che è stato fatto con il comfort lab che ha prodotto appunto dei benefici su ben quattro prodotti è un brevetto su un prodotto in particolare che però andremo poi a estendere su altri prodotti cioè chiaramente quando noi inseriamo una nuova tecnologia prima vogliamo dare un tempo di maturazione di test effettivi sul campo di essere sicuri che i benefici sono percepiti dal nostro consumatore ma il progetto è già sulla stagione prossima di ampliare la tecnologia ad altri modelli grazie 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 i give the floor to our friend from the Dresden university PhD student at the Dresden university for his presentation focus on examples of engineering development of sportswear using modern 3D and 4D scanning hardware and simulations software Sì, grazie mille. Sì, grazie mille. Sì, grazie mille. 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 Editive Manufacturing on Textiles, che è un'fanzibile per 3D printing. Questo è un progetto, dove abbiamo imprimito elementi in un'textile per protettive gear. E you can see, the nice thing about that è che quando formi un'textile, le elementi possono actually follow the shape. E anche, abbiamo fatto un'esercizio sull'automatico handling di textiles, perché questo potrebbe farlo in futuro. Questo è un video, non lo so, non lo so, questo è un video di un robot che abbiamo mostrato a fare di fare di fare e di transporte per per fare delle quantità di acqua a del robot. E anche, per produttare e simulare 3D 3D e 4D scanning, new means of acquiring measurements from humans e objects, the following virtuali product development and also product in human modeling. on the most right you can see an FEM simulation of the interaction of a sports brand person where you can see these strains in the product and model and simulate without actually having to make a prototype in the first place. Of course we work with all kinds of development software in the fields I'm sure you might know some of those brands. we also do this is a project that we already finished this is a project on the interaction that was done in a wind chamber and we had a look on where is the most wind resistance so that the company that marketed this suit can say that the wind resistance is exceptionally low for this gear. Now let me just show you let me get a little more into the details of some of the projects that we did so the first one was the development of a wingsuit at Teodriston so I mean flying is the is a dream of humanity it's as old as humanity itself right and we did our fair share in realising that so the motivation was to develop wingsuits that is good for flying alone but another one also to do tandem jumps and also the development of a body flying suit which is actually actually something different as you will see and the challenges here are of course you have to air resistance is very important when flying yeah? so we had to find out to test the air resistance of the fabrics we had to model those so that we can virtually develop this and virtually test it and we had also to find some ways of safely testing this because you cannot just put a person in a new suit and then just push them out of an airplane and see if it works or not alright? so here what we did was we tested the Reynolds numbers of and the wind resistance of the materials in a winch of 40 materials in a wind chamber in a where you have a steady air flow we then took those findings and modelled the suit according to this also of course incorporating other other necessarities like comfort for the for the person and then we had those tests in the windchamber as you can see on the most left side and then that at some point you actually had a person that jumped out of an airplane and tested the suit we also developed the suit for people so that people with mobile impairments can move themselves can do tandem jumps of course here you have different this is a technical challenge because the person cannot control all of the all of their movements so this has to be done by the other person that jumps with them and this was also done successfully and yeah I mean skydiving is the one thing but there is another sport emerging it's called body flying it's basically done with you have a a steady air flow from the bottom which is quite strong and then you can it is like flying but you are like this above the ground or like maybe 10 meters but not you don't have to jump out of an airplane for this and for this also you need special textiles of course and this is we developed those together with with the wind factory in Berlin here we modeled the the areas where the people can control the way they are flying based on the wind resistance of the of the areas of the of the fabric and then we also did some tests in the wind chamber with dummies first but finally here you can see the actual thing happening and now this might look you might say it is not that interesting but wait and see so of course he knows what he is doing and cool thing about this is that essentially this the this enables a completely new way of flying it is a completely new sport it is completely different from skydiving because it is not so dangerous and it is emerging in many cities now and yeah this is what we did at this front now another project that we are doing right now which I am working on is basically getting from a 3D scan to a knitted product for prosthetic liners so 3D scanning to be very briefly there is basically you have a 3D object and you have some kind of device you go around it and then you have a 3D model at in a digital realm that you can use to for product engineering and here we do it for people that have that need a prosthetic that need need a prosthesis because they have lost a limb and the challenging thing here is that you of course this is a strongly there's this area is very sensitive and it is also has an individual shape depending on the condition and depending on the position where you had the amputation so you cannot really use I mean they use standard sized products in the field but of course it is not as comfortable and there are conditions coming with that so we developed we're working on a workflow to get from the 3D scan to analyzing the structure and getting a knitting knitting workflow out of it and finally to knit the product and we are like I would say we are 60% done at this in this project and finally 3D and 4D body scanning so I told you about 3D scanning 3D scanning you got a static scan but 4D scanning is interesting because you can have 3D models of a person of a moving person that moves and this does not only allow for such funny animations but you can analyze how the how certain points move how certain points work how the body moves really and you can use this data to develop textiles you can get the patterns and you can as you can see this was done now for a racing position but we also did it for a bike racing suit again and yeah we are this is also an area that we are working on you can use it to analyze the movement of a person you can analyze to work also to use it to analyze the movement of the clothing the behavior of the garments and finally you can use it to create an avatar of the person and maybe this can also be used for example in fields of virtual fitting yeah so far to the project I hope I'm not running so much over the time what we also do of course we are a university we do a lot of teaching we do a lot of consulting work in the fields and we also offer courses and consulting in those fields so if for example we will soon have a larger seminar from external on 3D printing on textiles but in general if you need anything if you want to know get to know this better you can also we of course we are always there and we are always ready to share the knowledge and we also part together with the ITM of a huge network of German and international partners in the field of textiles in the field of high performance materials but also in the field of high performance sportswear or fashion and we of course always like to get in touch with more partners and to to establish more corporations so final remarks these are essentially the fields where you can work together with us we are also because it is an important topic right now we are also looking deeper in the fields of recycling and reusability of textile materials and yeah we will also next year have if you if you're intrigued interested I also brought some business cards actually I have way too many of them because of an internal mistake so please take some of them away from me because I cannot get rid of them and we were of course we are looking forward if you're interested if you're intrigued to working together with you we will host a conference on clothing and clothing technology next year in dreston 5th or 6th december I also brought some flyers again you can get those in a package with the business cards and yeah thank you so much for your time thank you so much for your hospitality for inviting me and hey I hope it was interesting to you I certainly had a lot of fun thank you so much thank you Ansem for your very nice presentation eh allora ci avviamo alla conclusione per fare questo chiamo sul palco ancora Federica Leonetti di Union Camere Piemonte eh Marta Serrano ci ha eh l'ultima delle relatrici segnata in programma ci ha contattato questa mattina per dirci che purtroppo ehm aveva contratto il covid quindi oggi non c'è per fortuna perché sennò magari avremmo anche avuto diciamo un contagio eh all'insaputa dei presenti ehm allora ci avviamo alla conclusione anche perché nel frattempo mi fa un po' freschetto credo che stiamo cominciando a sperimentare quella temperatura fra i 15 e i 20 gradi per cui l'alluce comincia a sentire un leggero fastidio no? allora prima di arrivare al dolore direi di arrivare alla fine eh lascio la parola quindi adesso a Federica grazie ok eh grazie mille buongiorno a tutti eh mi presento brevemente eh ok eh io sono Leonetti Federica lavoro prestugno in Camere Piemonte ehm mi occupo della tendenzialmente del settore del settore testile quindi eh eh diamo supporto alle piccole e medie imprese eh interessate a trovare contatti a livello internazionale tutto questo perché Union Camere Piemonte eh fa parte della come la Camera di Commercio di Torino d'altronde fa parte della rete Enterprise Europe Network eh la rete N è la più grande rete di supporto alle imprese a livello internazionale internazionale cofinanziata dalla Commissione Europea all'interno di un programma quadro ehm e diamo appunto eh supporto attraverso una serie di eh servizi eh gratuiti eh aiutando le piccole medie e medie aziende a ehm innovarsi a eh migliorarsi a livello internazionale a trovare soprattutto eh rapporti e eh contatti eh per espandere il proprio il proprio business il proprio network ehm brevemente ho elencato i servizi della della rete che spaziano appunto dalla crescita eh sviluppo su mercati esteri ricerca partner a livello internazionale attraverso una serie di eh servizi tra cui una una banca dati che mettiamo a disposizione delle aziende che possono sia ricercare profili eh commerciali che inserire appunto la il proprio profilo eh tecnologico commerciale per ehm creare appunto eh contatti a livello internazionale supporto all'innovazione quindi diamo anche diamo anche informazioni legate non soltanto alle politiche comunitarie eh ma anche a fonti di finanziamento appunto per le per le per le imprese eh la rete diffusa non soltanto eh a livello di paesi europei ma anche nei paesi non europei eh con oltre quattrocentocinquanta punti di contatto eh nel mondo quindi questo è questa è la parte eh principale del del network cioè siamo proprio una una rete eh e attra attraverso i contatti con i colleghi cerchiamo di trovare la migliore soluzione diciamo così eh per per l'azienda che ha specifiche esigenze ehm questo eh viene realizzato proprio perché eh cerchiamo di di creare sinergie tra quello che è l'expertise locale con eh il contatto a livello internazionale ehm come dicevo non soltanto diamo eh offriamo una un servizio di ricerca partner attraverso un grossissimo database eh ma organizziamo diverse attività che vanno da company mission mirate ehm all'organizzazione di eh eventi B2B che è poi la parte principale appunto del del nostro del nostro supporto proprio perché eh andiamo ad organizzare degli eventi di matchmaking all'interno di fiere di settore più o meno internazionali più o meno famose oppure all'interno di eventi che andiamo a creare appunto eh ad hoc ehm qua giusto per darvi un'idea insomma della dei numeri e del supporto che che offriamo eh alle alle aziende questa è una panoramica generale della 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 copertura della rete a livello eh internazionale eh la la rete è composta ehm da diverse realtà che vanno dalle università alle camere di commercio alle business support organization eh ai centri di ricerca cluster insomma tutti quegli enti o quegli organismi che lavorano con eh il tessuto locale industriale che comunque danno supporto alle imprese ehm la rete ehm ha una dinamica ben ehm precisa quindi opera in maniera molto specifica eh mettendo il cliente appunto al centro dei servizi quindi partendo dall'esigenza dell'azienda cerchiamo di ehm offrire su diversi servizi utilizzando il network e quindi l'expertise di tutti di tutti i colleghi eh cercando di dare eh supporto in maniera ehm ampia ehm una panoramica delle appunto dei servizi che che vengono offerti dalla 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 rete eh sotto diversi eh ambiti quindi dall'innovazione alla business partnering digitalizzazione eh internazionalizzazione eh accesso ai finanziamenti eccetera ehm che tipo di supporto eh l'azienda può ricercare dei contatti a livello internazionale per creare un nuovo prodotto entrare su un in un paese straniero nuovo quindi entrare in un mercato diverso avere informazioni su eh bandi e finanziamenti oppure cercare collaborazioni per partecipare ad un bando eh di progetto semplicemente. Nell'ambito della rete eh ci sono diversi gruppi di lavoro i cosiddetti sector group nello specifico io mi occupo del sector group tessile ehm ogni gruppo di lavoro raccoglie eh le expertise a livello internazionale di eh di colleghi e quindi questo crea ehm offre più che altro una alle alle imprese eh un supporto più specifico perché nel momento in cui l'azienda che si occupa di tessile eh approccia eh la lente che che fa parte appunto della della rete N tramite il sector gruppo si va a ehm offrire il servizio in maniera più eh puntuale specifica proprio perché i colleghi che gestiscono e che si occupano del dello stesso settore possono dare eh una una soluzione puntuale alle proprie alle proprie richieste. Questa è una panoramica generale dei dei gruppi di di lavoro e ehm e i sector group sono sono sinergici all'interno della della rete quindi questo crea ancora più efficienza per eh per le aziende stesse ehm la rete offre anche un supporto eh a livello di comunicazione quindi attraverso diversi canali e questo è molto importante perché quando organizziamo eventi di B2B andiamo poi a promuovere ehm sia le imprese oltre che ehm oltre che appunto la gli eventi organizzati e le attività organizzate ma soprattutto le imprese che partecipano nelle nostre attività. Nel momento in cui vengono create soprattutto eh delle collaborazioni, delle sinergie o delle storie di successo appunto tra le nostre aziende e quelle internazionali ehm cerchiamo di darne risalto attraverso i canali della rete della commissione europea quindi utilizzando ehm post sui social network ma ehm organizzando ovviamente eh anche materiale promozionale che andiamo a divulgare attraverso eh tutti i canali della del network. Il sector group, il sector group tessile ehm è composto da tre sottogruppi principali eh uno legato alla comunicazione appunto uno legato alla alla technical and smart textile e il terzo invece alla parte della sostenibilità. Questa differenziazione è molto importante perché all'interno del sector group in questo modo riusciamo a declinare i servizi in maniera molto più eh specifica e mirata. Il sector group tessile lavora con le piccole e medie imprese, con i brand innovativi, fashion designer, le start up, le università, quindi cerchiamo di coprire eh in toto il 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 comparto del 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 tessile. Eh siamo focalizzati su ehm ampi settori eh quindi diamo supporto in merito alla sostenibilità nel settore testile, digitalizzazione, l'innovazione, l'internazionalizzazione e alla ricerca partner ovviamente e andiamo a coprire tutto tutto il settore della eh del textile quindi dall'abbigliamento agli accessori al testile per la casa, testile tecnico eh wearable e filati fino ai macchinari. Qua nuovamente una panoramica sulla sui sui working group, le attività che promuoviamo all'interno della del sector group eh sono l'organizzazione come vi dicevo di eventi di eh B2B di settore, company mission, workshop come questo, talk tematici su diversi temi declinati al testile ovviamente, informazioni specifiche su su bandi comunitari ed europei legati al settore eh creiamo sinergie a livello internazionale con cluster, organizzazioni eh legate al settore testile a livello europeo che possono a loro volta dare supporto alle nostre aziende e poi appunto promuoviamo le le aziende a livello internazionale attraverso l'attività di comunicazione. Eh divulghiamo anche una newsletter che diffondiamo eh alle imprese nello specifico noi di Union Camera Piemonte all'impresa del territorio eh nella newsletter diffondiamo eh informazioni su eh bandi, prossimi eventi eh piuttosto che eh politiche eh comunitarie legate al settore o profili comunitari profili tecnici provenienti dalle aziende ehm per appunto la ricerca partner. Eh qui ho messo semplicemente una una lista di alcuni eventi che abbiamo organizzato nel corso degli anni eh eventi di B2B organizzati da noi direttamente come il Torino Fashion Match di cui vi parlerò a breve eh e poi altri eventi di B2B ehm organizzati dai colleghi ehm a livello internazionale quindi il Baltic Fashion in Lettonia eh U Fashion Match ad Amsterdam durante la fiera Mode Fabric eh il B2B organizzato dai colleghi portoghesi presso la conferenza i Textile ehm a Porto eh e il Textile Connect. Il Torino Fashion Match come vi dicevo è un evento che abbiamo eh ideato proprio è stato ideato all'interno del sector group ehm nel 2016 è nato con la collaborazione eh tramite la collaborazione con la camera di commercio di Amsterdam ed è un un format eh che abbiamo appunto chiamato Fashion Match eh organizzato ogni anno due volte l'anno una volta a Torino durante un un evento specifico eh che è la Torino Fashion Week eh e una volta invece durante eh la fiera Mode Fabric ad Amsterdam. È un evento che vuole raccogliere eh eh all'interno di una di una stessa eh di uno stesso momento diciamo la lo stesso target di imprese quindi dalla dai fashion designer ai brand innovativi alle aziende manifatturiere che possono quindi incontrarsi per creare collaborazioni internazionali eh l'evento quest'anno l'abbiamo organizzato a giugno è stato organizzato a giugno in collaborazione sempre con la camera di commercio di eh di eh di Torino il il B2B eh dura tendenzialmente tre giornate quindi le aziende hanno la possibilità di iscriversi tramite un portale online ehm preselezionare i meeting con tutti i partecipanti all'iniziativa e quindi partecipare all'evento e creare eh sinergia a livello eh internazionale. oltre B2B offriamo anche una serie di talk tematici invitando speaker internazionali e tutto questo eh a lato eh dell'a dell'evento che è la Torino Fashion Week che è un evento eh eh una manifestazione legata eh che da risalto alle piccole e medie imprese ma soprattutto agli emergenti e eh alle alle start up attraverso appunto sette giornate di eh di sfilate eh a livello internazionale quindi di brand che arrivano eh da tutto il mondo. Questo è il sito giusto per darvi eh una un'idea di eh di eh di quello che eh che è stato. L'evento ehm come dicevo copre tutto il comparto del settore tessile riguarda anche il del tessile sportivo e l'abbigliamento sportivo e outdoor ed è stato infatti inserito all'interno di un'iniziativa lanciata nell'ambito della della rete quest'anno chiamato IEN Itinerary Sport Pilot Project eh che è un'iniziativa che è stata appunto lanciata che ha mh a livello internazionale che ha voluto eh mettere in sinergia una serie di eventi di B2B organizzati nell'ambito della rete che avessero come fil rouge appunto il il tema del dello sport. Ehm qui un po' il dettaglio della dell'evento ma poi le slide ve le lascio così se siete interessati appunto potete eh andare ancora eh un'occhiata ehm e qua un'idea anche di eh dei talk che abbiamo organizzato eh durante eh l'iniziativa con una un talk anche del dedicato allo sportwear. Ehm qui ancora una un'idea qualche foto insomma dei 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 talk che abbiamo organizzato la delegazione ucraina che abbiamo invitato con il loro brand che hanno sfilato e partecipato ai B2B e qua un'idea appunto della dell'evento stesso. Il risultato per le imprese come vi dicevo visibilità a livello internazionale perché eh tutte le storie di successo vengono poi promosse attraverso blog, report, eh newsletter e attraverso i canali appunto della della rete. Utilizziamo anche eh altri canali come appunto il portale WeGate ad esempio che è un portale europeo per l'imprenditoria femminile. In questo caso il il portale ha voluto promuovere un'azienda locale eh di Torino che a sua volta è stata premiata a seguito della sua partecipazione all'evento ehm e che quindi è stata è stata premiata dalla dall'inizio dall'evento stesso ma poi ha appunto avuto la possibilità di essere promossa avere ulteriore visibilità eh attraverso questo portale eh WeGate. Ops. È successo qualcosa. Qua altri esempi di eh promozione della dell'iniziativa e qui appunto il la il premio che è stato dato all'azienda perché appunto collaborando con sponsor anche eh locali eh le aziende hanno la possibilità di eh di essere ehm scelte da alcuni store quindi avere la possibilità di eh di ehm esporre e rivendere mh all'interno di eh di store locali questo è il caso della della rinascente del 2020. Nell'ambito della del sector group eh ovviamente eh l'attenzione soprattutto eh ad oggi è indirizzata alla nuova regolamentazione europea per per il per il tessile eh legata alla sostenibilità eh a seguito della direttiva lanciata appunto dalla dalla commissione della commissione europea eh cerchiamo quindi di eh organizzare una serie di iniziative che possono eh aiutare le imprese a capire come orientarsi eh all'interno appunto di tutti i regolamenti eh legati alla eh sostenibilità nel settore tessile. Nello specifico all'interno del sector group stiamo lavorando sulla costruzione di un mapping eh sostenibile cioè cerchiamo di eh di dare eh di fare una mappatura di quello che è la situazione a livello eh internazionale delle delle aziende con cui lavoriamo eh a livello europeo di qual è la loro situazione eh in tema di sostenibilità. Questo è un un mapping è un work in progress perché appunto ci stiamo lavorando adesso e lo lanceremo la la prima eh la la prima il primo report eh all'inizio del del prossimo anno però è un work in progress ovviamente perché eh cerchiamo di ehm di dare un aggiornamento costante a quello che è lo stato dell'arte delle delle nostre delle nostre aziende. Eh qua ho voluto dare insomma un un dettaglio di quella che è la nuova regolamentazione la visione duemila e trenta della della commissione europea per il tessile sostenibile eh i punti chiave che appunto non sto magari adesso a elencare perché non è la la sede la sede adatta e tutte le iniziative appunto legate alla la sostenibilità eh e alle nuove direttive che verranno lanciate che sono già state lanciate e quelle future che verranno lanciate dalla commissione europea. Eh per concludere ehm nell'ambito della del sector group abbiamo appunto come vi dicevo questo focus sulla eh sul testile tecnico e sul e sullo sport quindi all'interno di questo di questa piccola task force cerchiamo di individuare ehm le le politiche eh comunitarie legate al al tema, diffondere informazioni eh sul sul settore, organizzare B2B eh tematici eh specifici eh e organizzare anche talk eh mirati sul sullo sport e sul testile sul testile tecnico. Come vi dicevo eh l'IEN Sport Itinerary che è stato lanciato lo scorso anno eh ha voluto eh mettere insieme una serie di eventi di B2B legati al tema dello sport eh che potessero coinvolgere tutte le aziende eh sportive eh e il il questo è un elenco insomma di tutti gli eventi che sono stati organizzati nel nel duemila e ventitré. La cosa interessante è che poi appunto le aziende che hanno preso parte a più di due iniziative creando sinergia a livello internazionale con aziende eh sono state poi le le migliori diciamo così che hanno avuto anche dei casi di successo sono state poi premiate eh qua a Torino eh a seguito durante la la manifestazione dell'ATP Finance eh di eh di novembre e quindi è stata una bella insomma iniziativa eh anche per dare nuovamente risalto alla al settore e alle e alle piccole e medie imprese ehm l'idea è quella di rilanciare l'iniziativa appunto nella nel duemila e ventiquattro e quindi qua come vedete ci sono già alcuni eventi messi a calendario ehm organizzati dai colleghi in Francia eh a Madrid e ne menziono soltanto uno perché viene organizzato nell'ambito del nostro sector group tessile eh in Francia a Biarritz eh il prossimo anno eh il Surf Summit eh e quindi lo lo promuoveremo insomma se siete interessati possiamo eh rimanere in contatto avete i miei riferimenti eh per concludere ultimissima slide eh i prossimi eventi eh di B2B organizzati nell'ambito del del sector gruppo legati al al tema dello sport e al tessile tecnico nello specifico eh ad aprile i colleghi tedeschi eh hanno già messo a calendario lo smart and technical textile duemila e ventiquattro eh all'interno del quale appunto ci sarà una un evento di B2B eh dedicato sempre alle piccole e medie imprese interessate a creare sinergie internazionali eh a giugno avremo sempre il B2B qua a Torino al Fashion Match in cui ci sarà uno slot dedicato ovviamente al testile tecnico e allo sport nuovamente eh e poi a ottobre appunto come vi dicevo il il Surf Summit eh in conclusione stiamo anche organizzando una una company mission ad aprile eh a Marsiglia con i colleghi eh di Marsiglia in cui vorremmo coinvolgere eh i buyer del del territorio interessati eh a incontrare eh retailer e aziende ehm francesi eh su delle del settore tessile quindi ma anche del settore del settore della dello sport e dell'abbigliamento sportivo. Sono andata rapidissima spero di non avervi confuso le idee così sono i miei contatti se se avete eh richieste specifiche possiamo rimanere in contatto. Grazie. Assolutamente. Grazie. Federica. Poi le slide in ogni caso verranno messe a disposizione di tutti i partecipanti e poi in ogni caso i contatti eh sono sempre presenti in qualunque modo ehm se non riuscite ad approfittare adesso del momento di networking a seguire ci sarà l'opportunità di contattare chiunque dei relatori anche in un secondo momento. Grazie. Allora ci avviamo all'ultima parte della della mattinata per diciamo chiudere un po' i lavori. Alla fine la mia presentazione deve essere stata messa sicuramente qui. Eccola qua. Bene. Allora come avete visto questo voleva essere un incontro che ha avuto un focus sulla Germania eh che sarà uno dei paesi con i quali ehm proveremo a lavorare già all'inizio dell'anno per capire quali eh potrebbero essere delle opportunità per le aziende del territorio ma in realtà questo primo incontro e ha voluto anche essere un incontro per lanciare concretamente questa idea di aggregare in qualche maniera di far conoscere di mettere insieme le aziende del territorio che a diverso titolo appartengono ad una chiamiamola diciamo un ecosistema dell'industria dello sport più che una filiera perché in realtà esisterebbero più filiere diverse all'interno dell'ecosistema dell'industria sportiva ehm questo tipo di attività l'abbiamo pensata insieme alle camere di commercio del camere di commercio di Torino e le altre camere di commercio piemontesi e l'obiettivo è quello di lanciare nelle prossime settimane poi una call dove chiederemo alle aziende di iscriversi e di far parte di questo progetto la call è diciamo molto semplice una call semplice a cui rispondere eh non ci sono costi da sostenere per le aziende che si iscrivono eventualmente ci saranno dei costi da sostenere se nello sviluppo delle attività si organizzerà per dire eh una fiera piuttosto che un evento nel quale ci saranno dei costi da sostenere ma diversamente far parte di questo eh progetto non ha nessun tipo di di costo come vedete le micro filiere che abbiamo individuato sono quelle che vedete elencate ehm sulla sinistra quindi l'abbigliamento le attrezzature la bicicletta trekking outdoor gli impianti sportivi moto wellness sci acqua tennis e padel da dove viene fuori questa questo elenco viene fuori da una prima diciamo mappatura che noi stiamo realizzando sulle imprese di tutto il Piemonte questo è un lavoro che stiamo facendo insieme come tre camere di commercio tutte le quattro camere di commercio del Piemonte e eh anche se con numeri molto diversi a seconda delle micro filiere che vedete rappresentate qui tutte queste filiere sono comunque a qualche titolo rappresentate all'interno dell'industria dello sport del Piemonte quindi abbiamo eh provato ad includere tutti ad essere inclusivi lo sviluppo poi di questo progetto di promozione della filiera sport in ogni caso avrà delle ricadute delle connessioni anche con altri settori che sono attualmente progetto di promozione nel nostro caso come camere di commercio di Torino ma anche nel caso di altre camere di commercio del Piemonte eh l'agroalimentare il turismo ne abbiamo parlato anche stamattina come diciamo elemento attrattivo del territorio anche da questo punto di vista il design qui vedremo proveremo a sviluppare anche delle delle nuove attività che possono interessare le imprese del settore avendo diciamo come obiettivo anche quello del miglioramento del del design di prodotto di servizio e così via l'editoria questo eh legato anche al lancio di un nuovo progetto eh che ha un focus sull'internazionalizzazione delle imprese del settore dell'editoria e creazione del contenuto che sta partendo in queste settimane e e l'editoria è parte integrante anche del racconto di come lo sport fa parte delle nostre vite e quindi eh ci vediamo una connessione importante anche da questo punto di vista la logistica ovviamente perché ogni volta che ci spostiamo per fare una gara partecipare eh ad un evento sportivo abbiamo bisogno anche della logistica che segua l'industria dello sport e lavori per l'industria dello sport e poi la parte di infrastrutture ovviamente in questo territorio eh piemontese torinese ma anche piemontese eh siamo stati capofila nella costruzione di molte infrastrutture sportive non fosse anche perché sono stati realizzati sul territorio degli eventi che lo hanno richiesto ripensiamo alle eh alle olimpiadi del duemila e sei e così via ehm allora sostanzialmente gli obiettivi sono questi molto velocemente primo a crescere la cultura del business dello sport facilitando in qualche modo anche la collaborazione tra le imprese e l'istituzione del territorio qui oggi avete sentito raccontare dell'esperienza da parte di imprese ma anche di istituzioni che lavorano sul territorio ce ne sono anche alcune presenti in sala che non hanno avuto modo di intervenire ma che saranno parte diciamo di questo dialogo parlo della regione Piemonte parlo eh del centro estero per l'internazionalizzazione che eh insomma sono presenti le colleghe qui in sala il secondo obiettivo è quello di rafforzare le competenze delle imprese dell'ecosistema sport su i temi dell' innovazione tecnologica del digitale del green che sono comunque indispensabili eh per diciamo anche portare avanti i nostri modelli e i processi organizzativi in chiave con tutte le sfide che ci vengono poste dai mercati eh globali e ultimo punto accompagnare le imprese nella crescita internazionale quindi cercando di aiutare le imprese sia quelle che già lavorano eh a livello di ehm diciamo partecipazione sui mercati esteri a vario titolo esportando facendo collaborazioni tecnologiche e così via ma anche per provare ad aiutare quelle che ad oggi ancora non hanno assaggiato la possibilità di essere presenti su un mercato al di fuori dei confini nazionali lo faremo partendo anche dai paesi diciamo dai paesi più vicini parliamo di Germania parleremo di anche altri paesi europei quindi cercheremo di dare una mano anche alle imprese che ad oggi non hanno avuto ancora nessun tipo di esperienza di internazionalizzazione eh il programma di attività nel duemila e ventiquattro per sommi capi lo vedete riassunto qui innanzitutto noi andremo a completare questo ehm questa mappatura delle imprese operanti eh sia nell'area di Torino che in tutta la regione Piemonte ehm pensavamo di ideare un branding progettuale molto semplice qualcosa che individui comunque anche tutte le istituzioni e le aziende che faranno parte di questo progetto per renderlo visibile e riconoscibile anche verso l'esterno ci sarà poi il lancio di questa colla aperta gratuitamente alle imprese di cui parlavo prima ehm qui verranno messi a disposizione servizi gratuiti e alcuni servizi a pagamento che saranno attivabili solo a discrezione dell'azienda se avrà bisogno di avvalersi di qualche servizio specifico che di cui avrà bisogno e poi lo sviluppo di una parte di un partnership agreement con AssoSport come abbiamo ehm anche sottolineato all'inizio della giornata di oggi proprio perché la nostra intenzione è anche quella di accresce nella nella crescere la collaborazione tra gli enti c'è anche questo di ehm promuovere i servizi offerti da AssoSport alle imprese del territorio e così anche eh consentire alle imprese che ancora non non conoscessero qual è ma abbiamo visto nella presentazione di Anna Ferrino anche quali sono le attività che vengono portate avanti la possibilità anche di accedervi con in tariffe agevolate eh secondo eh pillar secondo pilastro di lavoro nell'ambito di questo progetto è quello di rafforzare le competenze come abbiamo visto delle imprese nell'ecosistema sport per innovazione tecnologica digitale green in particolare qui organizzeremo dei workshop aziendali in collaborazione con il Fab Lab Torino e il Circo del Design queste sono delle azioni che pilota che serviranno per promuovere l'utilizzo del design come leva di innesco dei processi di innovazione delle aziende sportive e poi eh attiveremo un servizio pilota di assistenza personalizzata per le aziende che sono iscritte al progetto in collaborazione con il laboratorio di alta tecnologia tessi del Politecnico di Torino di cui abbiamo visto prima un'eccellente presentazione e finalizzato questo a studiare l'utilizzo di materiali innovativi per l'abbigliamento e le attrezzature sportive queste sono attività che verranno finanziate ovviamente da noi come camera di camere di commercio e che verranno messe a disposizione delle aziende ugualmente per quello che riguarda la crescita internazionale avremo diciamo una seconda parte dell'incontro di oggi grazie alla collaborazione con la camera di commercio italiana in Germania per l'organizzazione di incontri B2B con l'invito di Bayer tedeschi qui a Torino nel primo trimestre pensavamo di posizionarci nel primo trimestre semestre non abbiamo ancora decise esattamente le date eh l'organizzazione di un secondo evento con un focus su un altro paese questa volta avremo gli Stati Uniti come paese ospite eh e qui proveremo a fare nel contesto di quell'incontro anche contemporaneamente dare l'opportunità di organizzare dei B2B con dei Bayer provenienti dagli Stati Uniti ehm parte integrante di questa attività sarà anche quella di provare un po' a trovare un sistema di equilibrio anche con i grandi eventi sportivi del territorio quindi abbiamo segnati solo alcuni poi c'è un un aggiornamento continuo sicuramente le ATP Finals che vedranno la loro quarta edizione del duemila e ventiquattro bike up duemila e ventiquattro l'evento focalizzato sulle bici che verrà organizzato a Torino se non ricordo male in giugno e poi non dimentichiamo anche la final eight di basket che sarà eh organizzata qui a Torino a febbraio e che darà modo anche in questo caso di fare di alle imprese anche di partecipare a dei B2B che verranno organizzati direttamente dalla Lega Basket anche con la nostra collaborazione. Punto quattro questo mh in questo caso specifico è un è una facility offerta solo alle imprese iscritte alla Camera di Commercio di Torino per il momento non è detto che poi diciamo nei prossimi mesi non ci sia anche qualche misura che possa essere messa a disposizione anche da altre Camere di Commercio comunque eh il primo di dicembre è partita eh diciamo eh è stata pubblicata questa call questo bando per ehm erogare un voucher eh a titolo gratuito alle imprese quindi un contributo a fondo perduto alle imprese che eh vogliono partecipare alle fiere che qui vedete elencate quindi ce ne sono alcune sia eh all'estero a Los Angeles a Monaco quindi di nuovo Germania e poi anche due eventi organizzati in Italia uno a Rimini, Rimini Wellness e l'altro organizzato a Riva del Gard Outdoor eh Running Business Days organizzato in collaborazione con ICE e qui si innesterà anche questa collaborazione che come a Camera di Commercio abbiamo in piedi anche con con ICE. Ehm legato anche a questa collaborazione con ICE ci sarà poi un incambio di operatori esteri del settore impianti sportivi presso le strutture postolimpiche eh organizzato questo a seguire rispetto ai business days di Riva del Garda. Questa sarà anche un'opportunità per il settore delle infrastrutture offerto al territorio. Ehm ringrazio ovviamente tutti gli organizzatori della giornata di oggi, li vedete elencati qua quindi oltre alla Camera di Commercio di Torino e con anche con il cappello della rete N, anche le altre Camere di Commercio del Piemonte quindi la Camera di Commercio di Cuneo, la Camera di Commercio di Alessandre Asti e la Camera di Commercio Monte Laghi, Monte Rosa Laghi dell'Alto Piemonte. Tra l'altro le colleghe sono anche in sala e quindi se volete incontrarle adesso ci sarà l'opportunità e poi come partners anche il Politecnico di Torino, Asso Sport e poi anche gli altri diciamo partner che sono intervenuti per la giornata di oggi. Il mio ringraziamento va a tutti voi, vi invito ovviamente quello di restare sintonizzati perché quando la call partirà apriremo questa opportunità alle aziende per iscriversi, alle aziende di tutto il territorio quindi non solo di Torino e sicuramente ci sarà un po' bisogno anche della collaborazione di tutti perché abbiamo visto anche che nello sviluppo di questi progetti di filiera una parte importante è proprio anche la modalità attraverso la quale le imprese si conoscono e possono individuare ulteriori anche percorsi di collaborazione che magari non erano stati immaginati in un primo tempo. Allora io avrei terminato, dovremmo essere anche in tempo rispetto agli orari che avevamo, ci eravamo prefissati, non so se c'è qualche domanda che qualcuno vuole porre a qualcuno dei relatori che sono intervenuti, se qualcuno in sala vuole approfittarne, altrimenti diversamente se non ci sono mani che si alzano direi che ci possiamo spostare nella parte esterna per questo light lunch e avremo l'occasione di continuare a chiacchierare insieme. Un ringraziamento particolare in chiusura va anche ai nostri partner arrivati dalla Germania quindi ringrazio loro per essere venuti qua all'Università di Bresta, la Ministro di Commercio, il distretto della moda e anche perché con molto piacere la collaborazione continuerà anche nel 2024 e quindi chissà, avremo anche modo di vederci perché no anche a Dresda nell'opportunità che è stata presentata molto interessante, credo che tutti noi abbiamo un po' sognato vedendo poi quelle tute alari che ci facevano volteggiare. Ecco, ecco infatti, questa è la parte più interessante, esatto, procederemo con la prima fase. Grazie e ci vediamo di là. Grazie. 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 Grazie.